e eccoci qua eccoci qua buonasera buonasera ben ritrovate ben ritrovati qui in questi di lunedì buon lunedì appuntamento con Lovecraft di lunedì collocazione un po' inusuale ma abbiamo dovuto organizzarci un attimino ma ce l'abbiamo ce l'abbiamo fatta buonasera saluto chi magari vorrà guardare questa live indifferita saluto Davide che è già in chat mentre aspettiamo che altre persone che ci raggiungano che ci vogliono raggiungere ci raggiungano do intanto il bentornato ai miei due colleghi soprattutto Dario e Sara che sono qui anche questo lunedì salve a tutti ciao vi domo ciao buonasera buonasera a tutti siamo qua stanchi sfatti ma pronte ad affrontare i mostri e qualunque cosa il signor Ward ci racconterà che farà buonasera buonasera a tutti anche io sono come dire organizzata per riuscire a tanto io non posso fare sta cosa perché stai robo di marchi di vabbè buonasera buonasera beve roba lei beve roba non si preoccupi beve roba non si preoccupi esatto io mi caffeino si caffeini si caffeini voi in chat come state intanto saluto chiunque stia arrivando palesatevi palesatevi non siate timidi non siate timidi come va come vanno le cose dite un po che solo tre puntini mi do perché succede che succede a non lo so io non lo so non lo so non lo so che è vero è vero è giusto sono i grandi misteri della vita a c'è perché 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 no non è geniale non mi viene un altro termine vorrei essere gentile per per questa volta però non lo so fantastico sublime elegante incredibile no è frustrante seccante leggermente innervosente forse non so neanche non so neanche perché mi prendo la briga di cercare una una definizione aspettate un secondo cosa ci raccontate dai raccontaci qualcosa di interessante di divertire raccontate raccontate non pensiamo alle freddure non pensiamo alle freddure questa volta dai su raccontate qualcosa di divertente a chi non ha ancora scritto in chat scriva in chat scriva scriva possibilmente non freddure ma scrivete scrivete dateci un motivo per per essere contenti già stasera dobbiamo affrontare dall'altra volta avete visto cosa abbiamo affrontato gente che doveva fare di pattuglia il fiume e si è salvata chi invece è andato in battaglia diretta ragazzi non chiedete non chiedete che cosa è successo questo è esattamente il riassunto dell'altra dell'altra volta arriverà e abbiate pazienza che si diventa sono un po complesse ma arriveranno tutte ricaricate prima o poi non temete si si non preoccupatevi arrivano arrivano ce la facciamo non arrivano tutte tanto sono tutte salvate sono sono tutte salvate quindi non che filosofo no questa è credo questa è sean conneri in highlander credo se non ricordo male quando gli sta spiegando quando gli sta spiegando l'immortalità va beh quel film all'epoca l'ho divorato è che mi piaceva un sacco a me ti manca sarà sarà sì non l'ho visto io ti dico solo che è il film che mi ha fatto innamorare della scozia quello invece mi ha fatto innamorare dell'irlanda visto che è girato tutto in irlanda come the northman finché parla della scozia dove è girato tutto in irlanda che te ne accorgi perché la scozia è tutta brulla invece lì è tutto verde ciao escapolo grazie mille per il rinnovo della sub buonasera disney plus volendo tu l'hai andato a fanculo david così è con molta eleganza sì che educazione che fantastica educazione come stai escapolo come vanno come vanno le cose vado a vedere vedere anche te sembra che male che educazione che è sta educazione sta pseudo educazione mamma mia che gente che c'è in giro mamma mia che gente è il tuo film preferito vidomo highlander dc sì comunque avrei giurato vidomo che uno dei tuoi film preferiti fosse stato uno di quelli di dario argento cioè come dire in tutto il tempo che ho conosciuto vidomo era molto più facile che è molto più facile che io lo senta parlare di dario argento piuttosto che di highlander ah ok salve salve comunque il fatto che il massimo non mi sono male ma è uscita malissimo ok ok non riesco a capire come volessi tirarti su di morale però devo dire che insomma sei impegnato cioè per farti ridere cosa in quel modo sei impegnato sì in senso sbagliato cioè nel senso e per farti ridere cosa voleva fare tirarti una sberla no chiedo eh chiedo è il mio film preferito ma non quello che reputo il migliore ma è quello che sono più legato beh sì è uno dei motivi di fascino anche per me per quanto riguarda quel film voglio dire ci sono le musiche dei Queen anzi musiche di Michael Kamen ma canzoni dei Queen esatto io sono più legata alla canzone che è tipo da colonna sonora che è who wants to live forever finché non è arrivato il volo poi vabbè non lascia perdere pensa alla versione originale non farti del male però è stato bello perché mi hanno fatto ridere non mi ricordo chi ha fatto il montaggio con appunto il volo che canta once di forever a Sanremo e sotto Freddie Mercury nel frattempo hanno tirato fuori il Doctor Strange zombie in quel momento Freddie Mercury esce dalla tomba per prenderli a calci nel sedere sì effettivamente se lo sarebbero meritati perché insomma comunque l'ho sentita non è male però sì ma non è no è proprio loro come si pongono sul palco che mi stanno facendo ciao Gabriele ciao buonasera ciao Gabriele buonasera buonasera ben arrivato come va parlando delle canzoni dei Queen no ma se tra l'altro non è l'unica canzone perché tutto l'album a kind of magic è colonna sonora tutto l'album? ah sì certo anche Princess of the Universe è vero tutto l'album a kind of magic eh sì è la canzone d'apertura del film è troppo tempo che non l'ascolto adesso oddio quindi guardi il film mentre Giacomo legge io che mi io che mi ascolto Princess of the Universe ah purtroppo è un abbonamento premium su Prime Video non è un abbonamento standard esatto però visto che Braveheart invece è tranquillamente sul Disney Plus quindi potrei recuperarmi quello però è anche vero che è troppo tempo che non guardo come si chiama un altro film con Sean Connery credo ciao Noir buonasera ciao Noir buonasera come stai? chi è appena arrivato? come state? come state? scusa Sara dicevi il primo cavaliere con Richard Gere, Julia Ormond, Sean Connery quello è guardabile tranquillamente e io quel film lo amo lo amo eh beh sì veramente quello lo guardo finché ero picchina proprio Dario sei tu che stai tamburellando sul tavolo? probabilmente sì 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 può essere no perché si sentiva sentiva stavi suonando la batteria stavi suonando la batteria no? sì tra l'altro io devo ricordarmi di non lasciare proprio l'orrore vacui per quando parlo perché ho il orologio che va in cucina e vabbè ma l'orologio ormai è il quarto membro di questa live anzi il quinto perché il quarto è la borraccia la borraccia ce l'ho qua pronta solo che stasera non hai il tappo ci metto bevo ebbè sì me lo ricordavo giuro che l'ha detto eh abbiamo un album intero li prendiamo solo per tutti voi e poi voglio dire che affarone hai i Queen conosciamo i Queen buttiamoli via no ma poi loro ma poi loro coraggiosissimi perché l'altra colonna sonora che gli avevano chiesto prima era tipo Flash Gordon ma sappiamo benissimo ecco anche Flash Gordon vorrei vederlo ma mi sa che io lo guardo tipo con l'occhio della parodia non lo guarderò mai seriamente Flash Gordon cioè perdonatemi fu abbastanza un un flopazzo sì fu discretamente un un flopazzo però le loro canzoni erano erano belle sì ma Noir l'assemblea condominiale alla Fantozzi cioè tipo guerra aperta botte gente che vola dalle finestre quindi insomma hai affrontato hai affrontato l'ira della gente in uno degli ambienti peggiori ti aiutiamo a rilassarti esatto quella è una cosa che non ho mai sperimentato e non sperimenterò mai una simile condominiale perché grazie a Dio a casa mia deve essere qualcosa di abbastanza strano da vivere di particolare sì gente che non lo so neanche io l'ho mai provata citazione senti stronzo tu sei come Sandro Curzi fai della retorica insopportabile allora lei porta dentro il cane che caga come un leone in giro per il condominio e lo sa che da regolamento condominiale non si può invece si stavano per azzannare per dei contatti quindi è veramente come infantoti lei rimanca ancora tre rate da pagare eccole qui uno due e tre lei che danneggia la guardiola vado giù a vederla vada vada oh c'è andato lei lo sa che una bicicletta da regolamento condominiale in cortile non si può mettere le buco le gomme cosa le storpio il car cosa signora Debora buongiorno allora allora a me non mi si prende per in giro capito perché lei apparentemente è educato va sotto sotto è un gran cafore perché quando sto lavando il pavimento direi che non si passasse in giro ma che io la curo sa io la curo bellissimo mi cammini di condominio fa provare l'ebbrezza del potere l'ebbrezza del potere e dopo il 95 ci fu un boom di persone che andarono a fare le portinaie o i portinaie per provare l'ebbrezza io devo ancora recuperarmi sia il monologo iniziale sia lo sketch che ha fatto di apertura devo ancora recuperarmi tutto però dovrei aver visto chi sono i ho visto chi sono i vincitori se avete sentito rumori alla mia la storia che è partita per la tua parte allora vi domo io accetto le freddure su questo canale ma gli insulti a David Tennant no questo no 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 sono attento così da eliminarti nel saggio sappilo non lo faccio solo perché l'hai buttata subito sul ridere sì e lo sappiamo che lo fai solo per provocare lo facciamo soltanto che in realtà non ci credi neanche tu ma non è mai abbastanza David Tennant non è mai abbastanza David Tennant scusa se ho preso e niente a un certo punto vi dico solo che per chi segue serie britanniche eccetera 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 siamo stati blessati benedetti dalla compresenza proprio nella stessa foto di Killian Murphy e Andrew Scott e beh forse sono ancora visibili sulle mie storie Instagram in quel momento io ho sentito che c'è stata la congiunzione astrale positiva perché se si cioè insieme già David Tennant e Michael Sheen sono una bellissima coppia ma in più se mi fai Killian Murphy e Andrew Scott io proprio muoio male e mi devi tirare su un cucchiaino da te la dicitura della tua foto era autolesionismo autolesionismo poi non mi sa come di Tennant autolesionismo parte 2 esatto c'erano tutte le storie di Georgia Tennant che supportava il marito e che era lì anche lei i BAFTA blog lei è la prima stalker di suo marito ma lei ma lei è meravigliosa ma tra l'altro aveva il kilt non ho visto ha presentato i BAFTA in kilt ti rendi conto ti rendi conto questo non smetterà mai di dire io sono scozzese e ne sono orgoglioso il suo orgoglio scozzese non 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 si non si ma Giacomo tu che hai visto la seconda stagione di Gudomest ti rendi conto che a un certo punto come dire Crowley canta l'inno scozzese che è ancora prima che però è stato tipo inventato dopo o composto dopo è stato precursore è lì che capisci che Crowley è stato precursore dei tempi sì decisamente decisamente sì tra l'altro lui ci rimase malissimo quando non gli permisero di usare il suo accento normale per Doctor Who ma gli dovete fare dovete fare l'accento brici solo in una scena solo nella scena in quello con la regina Vittoria gli fanno fare una scena dove gli fanno parlare scozzese con anche Rose che cerca di parlare scozzese no no lì secondo me smetteva di recitare no non offendere il mio accento no non lo fare che bello e comunque anche Pipino ha l'accento scozzese no l'accento di Pipino è Billy Boyd è cioè ha più secondo me ha più accento scozzese che cellule nel corpo What about second breakfast We about second breakfast che bello che l'accento dei Tuck sia l'accento scozzese probabilmente Tolkien avrebbe avuto da ridire ma perché l'accento della terra di Tuck è l'accento scozzese io invece oggi stavo pensando che secondo me per Tolkien quelli dell'Oxford English Dictionary erano i suoi Sackville Beckings sì sì probabilmente sì probabilmente sì probabilmente sì erano i suoi Sackville Beckings della sua vita vera ma appunto secondo me sull'accento sull'accento non so non ho idea se i Tuck fossero scozzesi però però ha reso particolare il loro accetto perché comunque sono sempre quelli strani tutti gli Hobbit parlano invece ma di solito sono i nani che hanno l'accento scozzese nelle serie delle cose chissà per quale motivo però boh i nani sono scozzesi perché sono rudi sono sono uomini di altri tempi rudi e montanari quindi rudi e montanari sono scozzesi beh dovrebbero avere l'accento degli appalachi ho detto ho detto scozzesi non americani a parte che credo che gli accenti di quelle zone e di alcune zone del sud degli Stati Uniti tipo l'Alabama sono incomprensibili ma potrebbe essere non lo so mai stato in quelle zone ne mi interessa andare sinceramente quindi e tu che ne sai che non sono scozzesi beh ma in parte allora anche Gimli in parte aveva l'accento un po' scottish per certi versi anche John Rhys Davis lo usava se non ricordo male dovrei rascoltarmelo in originale perché da un po' che non guardo Signora degli Annelli in originale però probabilmente l'accento di Billy Boyd che è proprio scozzese scozzese invece devo controllare perché non mi ricordo mai Monaghan da dove arriva non mi ricordo neanch'io tra l'altro Britannico Stockport vabbè è nato in Germania Scholleg scusate Manchester è di Manchester anche loro più che altro lui ha studiato a Manchester perché in realtà ha vissuto a Stockport ah tra l'altro sì sì sempre dintorni di Manchester ok tra l'altro per chi non lo sapesse in questo periodo Billy Boyd e Dominic Monaghan sono in scena con Rosencrantz e Gilderstein sono morti che è una play stupenda Tom Stockport praticamente è la storia appunto per chi conosce l'amleto di Rosencrantz la storia di Rosencrantz e Gilderstein sì solo che vedete che è completamente cioè è una cosa come dire è quasi teatro dell'assurdo sì 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 non è una cosa puramente shakespeariana è più una è una reinterpretazione praticamente ha sfruttato personaggi già esistenti per raccontare la sua la sua versione diciamo e sono in scena con quello che tanto quanto è bello che dopo più di vent'anni siano ancora amici ma tutti e quattro tutti e quattro anche con Elijah Wood e Sean Astin che ogni tanto si riede dopo più di vent'anni sono ancora amici che bello Rice Davis invece è gallese sì è vero è vero è un Welsh come Michael Cile è vero è vero è gallese anche lui è vero dovevo dire una cosa ma non mi ricordo forse ah la cosa divertente però fu il casting di Frodo nelle note di casting c'era scritto nelle note l'interprete di Frodo deve essere tassativamente britannico sono andati alla fine a prendere Elijah Wood che è americano e mi sa che è uno dei no sì uno dei pochi americani Viggo Mortensen adesso non mi ricordo dovrebbe essere statunitense anche lui vado a vedere Viggo Mortensen adesso ho detto l'altro sì è dello stato di New York è americano sì perfetto anche Sam Orlando Bloom credo sia inglese esatto lui è Orlando Bloom è britannico e Liv Tyler stavo pensando Liv Tyler è americana Viggo Weaving è australiano Sean Bean è inglese Kate Blanchett è australiana sì anche lei è australiana infatti i due principali signori eifici sono australiani che vediamo nei film sono australiani tutte e due esatto visto che dicevamo di gallesi non gallesi anche Morfid Clark che ieri sera era in BAFTA perché l'ho vista sul red carpet carina anche lei è gallese tra l'altro mai dare dell'inglese a un gallese vi sputa in un occhio ricordatevelo come anche mai dare del britannico a un irlandese o si incazza perché l'ha fatto anche Killian Murphy senza incazzarsi ovviamente però ci ha tenuto a ribadirlo durante l'intervista ha fatto sei un attore britannico no 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 io sono irlandese mai dare del britannico a un irlandese Vigo Mortensen è vero è cosmopolita americano di genitori danesi figlio dell'ambasciatore americano in Cile sì sì è vero ha una famiglia molto variegata e tra l'altro parla benissimo molte lingue tra cui l'italiano è poliglotta anche Vigo Mortensen si Rosencrantz e Gilderstein sono timone e pumba assolutamente sì timone e pumba sono esatto solo che come dire timone e pumba in confronto sono due bimbi speciali meravigliosi perché diciamo sono l'ispirazione sono la versione positiva di Rosencrantz e Gilderstein sì visto che visto che gli avevano detto appena arrivate di là ammazzatelo fatelo ammazzo questa è la lettera ammazzatelo oppure poi alla fine hanno presentato la lettera hanno ammazzato loro due allora hanno ammazzato Amleto? no hanno seccato Rosencrantz e Gilderstein ma come? eh sì non c'era hanno andati loro gli hanno ammazzati e comunque e comunque io vedendo la trasposizione di Kenneth Branagh dell'Amleto Orazio era cioè il rapporto tra Amleto e Orazio non so perché che mi è sembrato molto nebuloso in certi momenti in certi frame eh non l'ha riveduto da un po' è che è solo una volta l'ho visto una volta quella di di Branagh dovrei mi ricordo però e mi era piaciuto il suo molto rumore per nulla che a me manca spesso che vado a vedere dove sta tra l'altro come Amleto mi pare che a teatro adesso ci sia McKellen che sta facendo Amleto ah sì io so che c'è Tennant che sta facendo McBeth però e dovrebbe esserci anche si si che fam l'ho detto si si dovrebbe esserci lui ha otto e passa anni si esattamente tra l'altro lui ha fatto anche McBeth con Judy Dench che era lì McBeth ha fatto ha fatto ovviamente tutto ha fatto ovviamente qualsiasi roba Shakespeare ha fatto anche il cilindro la McKellen veramente se non ha fatto tutto come stai Patrick come vanno le cose adesso comunque tra poco iniziamo non vi preoccupate vi do che palle anche questo è un bonamento premium su premium video la la allora ehm esce eh cioè è appena uscito il film diciamo girato nel 2021 quando McKellen stava facendo Amleto a teatro a Royal Theatre a Royal Windsor Theatre sì esatto Dario grazie mi hai dato un'ottima idea perché in teoria se voi cercate National Theatre at Home vi viene fuori proprio questo servizio di streaming e noleggio delle play delle pièce teatrali britanniche quindi voi magari potete vedervele in streaming sapete che ce le avete per ehm pagato ovviamente qualcosa adesso non mi ricordo dovrebbe essere sempre sui 9-10 euro il noleggio però per uno spettacolo teatrale di qualità così ne vale la pena sì 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 ve lo guardate comodamente da casa ma vi assicuro sono uno più bello dell'altro non stiamo parlando di a tutta alcuna Vincent Price non poteva essere fatto Sir perché Vincent Price è americano né britannico esatto quindi è difficile che adesso il titolo di Sir esatto era americanissimo erano Lee e Cushing essere britannici Cheney e Price erano americani esatto Carlos era britannico anche Carlos sì Lugosi invece era ungherese ungherese mi sembra ungherese Lugosi sì non ricordo male stanco va bene dai ti rilassi un po' con noi noi abbastanza bene sì Oppenheimer ha stravinto ma farò finta di non leggere l'ultima parte del messaggio ungherese sì era ungherese era ungherese esatto di solito mi viene in mente un altro lui si chiamava Bella Lugosi giusto? Bella Lugosi sì perfetto mi viene in mente un altro compositore che era Bella Bartok che dovrebbe essere anche lui come dire ungherese adesso vado a controllare tra l'altro se avete dubbi sulla nazionalità di Karloff ricordatevi la scena di Ed Wood in cui Bella Lugosi che notoriamente era era invidioso di Karloff perché aveva fatto più carriera di lui c'era un po' una rivalità tra Karloff e Lugosi in cui lui si sfoga e lo chiama quel testa di cazzo di un inglese no ma è bello Ed Wood di Tim Burton è un bel film forse uno dei suoi migliori Lane 9 from Outer Space grande film parla anche della lavorazione di quel film di Plan 9 e parla soprattutto dell'amicizia che c'era tra Bella Lugosi e The Wood allora io mi devo assentare un attimo torno appena possibile se intanto i miei colleghi vogliono iniziare a leggere per me nessun inserimento ok sì tra poco iniziamo tra poco farò finta di non aver letto il commento di 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 assolutamente farò finta di non di non averti letto e insomma posso soffrire posso soffrire mi fate soffrire però vabbè fa parte del gioco ormai fa decisamente parte del gioco ma a proposito invece di Lovecraft sul canale sul sito rosso sul canale sul tubo della Chaosium che è la casa di produzione del gioco di Call of Cthulhu è iniziata una nuova serie diciamo sì di gioco di ruolo con appunto attori doppiatori eccetera che è molto bella che si chiama Graveyards of Arkham e è uscito oggi il secondo episodio saranno cinque penso un episodio a settimana ve lo consiglio perché è molto carino ma chi c'è? allora che allora di famosi non ne conosco nessuno a parte Mark Mear che è il keeper il custode gli altri non saprei dirti chi sono beh andrò a vedere andrò a vedere però è molto carino poi Mark Mear come custode è figlio ci sta ci sta allora io direi di di iniziare con la lettura se vi va di tornare nei territori Lovecraftiani con Charles Dexter Ward che dopo aver letto tutto quello che ha letto sul suo antenato invece di fare la cosa più intelligente ovvero lasciar perdere ciò che mi metto alla ricerca ulteriormente giusto bravo ci sta sempre esplorare sempre esplorare il passato no perché poi tu esplori il passato ma potrebbe essere il passato esplorare te in modi che magari non vorresti eh vabbè devi correre dei rischi ho capito però il mio antenato era sospettato di rituali strani di evocare demoni o divinità e cose creature ancestrale forse era pure un risuscitatore di morti aspetta che vado a informarmi di più e vado a cercarlo quindi siamo alla parte 3 ragazzi del lungo racconto su Charles Dexter Ward lasciamo una no cioè lasciamo passiamo dall'epoca di Kerwin all'epoca di Charles Dexter Ward sì esatto vi do una buona settimana adesso sto compensando tutto sto cercando di riequilibrare il mio organismo però ecco è difficile è difficile allora soffro un po' meno di prima ma comunque soffro ecco mettiamola dove parte terza una ricerca e un'evocazione cioè le due cose che non devi fare state a casa vostra e non evocate niente ok aspetta aspetta state a casa vostra e non cercate niente non ne vale la pena Charles Ward come abbiamo visto ha preso per la prima volta nel 1918 della sua discendenza da Joseph Kerwin non c'è da meravigliarsi che fosse improvvisamente colto da un intenso interesse per qualsiasi cosa riguardasse quel mistero del passato e le purvaghe voci che aveva udito a proposito di Kerwin erano ora diventate di vitale importanza per lui nelle cui vene scorreva il sangue di Kerwin nessun genealogista coraggioso e fantasioso avrebbe fatto diversamente da ciò che lui fece vale a dire cominciare subito una raccolta avida e sistematica di tutti i dati che si potevano trovare su Kerwin no 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 non tentò in alcun modo di tenere segrete le sue prime ricerche così che perfino dottor Lyman esita a far cominciare la follia del giovane in un periodo antecedente alla fine del 1919 ne parlava apertamente con la sua famiglia sebbene sua madre non fosse particolarmente contenta di avere un antenato come Kerwin e con i funzionari dei vari musei e biblioteche in cui si recò nel chiedere ai chissà se il mio personaggio lo ha incrociato il mio personaggio di Call of Thule lavora nei musei dopo la prima guerra mondiale quindi chissà chissà nel chiedere ai privati documenti che riteneva in loro possesso non tenne celato il suo scopo e condivise lo scetticismo alquanto divertito con cui si guardava i resoconti degli antichi diari e lettere spesso espresse un'acuta curiosità nei confronti di quello che era veramente accaduto un secolo e mezzo prima alla fattoria di Potaxet la cui ubicazione aveva in vano cercato di trovare e nei confronti di chi era nei confronti di chi era accaduto un secolo e mezzo prima e nei confronti di chi era stato veramente Joseph Kerwin quando si imbatte nel diario di Smith negli archivi e trovò la lettera di Jedediah Orn decise di recarsi a Sedem per indagare sulle attività e sulle conoscenze di Kerwin in quella città partì durante le vacanze di Pasqua del 19 all'Essex Institute che gli era ben noto dai precedenti soggiorni in quella antica affascinante cittadina dai decadenti frontoni puritani e dai fitti tetti spioventi fu colto con gentilezza e vi scoprì una notevole quantità di informazioni su Kerwin venne così a sapere che il suo antenato era nato a Salem Village ora a Danvers a 7 mila dalla città il 18 febbraio del 1662 o del 63 e che era fuggito per imbarcarsi all'età di 15 anni non si era più visto per nove anni dopodiché era tornato con l'accento l'eleganza e le maniere di un autentico inglese e si era stabilito a Salem città in quell'epoca aveva pochi rapporti con la famiglia e passava la maggior parte del tempo a leggere gli strani libri che aveva portato dall'Europa e a fare esperimenti con le inusitate sostanze chimiche che gli arrivavano con le navi dall'Inghilterra dalla Francia e dall'Olanda certe sue escursioni nella campagna erano oggetto di molta curiosità da parte dei concittadini e venivano associate a vaghe voci di fuochi accesi di notte nelle campagne i soli amici intimi di Kerwin erano stati un certo Edward Atkinson di Salem Village e un certo Simon Orn di Salem era stato visto spesso in giro per la regione con questi due uomini e i tre amici si scambiavano frequenti visite la casa di Atkinson era lontana dall'abitato verso i boschi e la gente impressionabile la evitava per i rumori che si sentivano provenire dal suo interno durante la notte si diceva che intrattenesse strani ospiti e che le luci che si vedevano le sue finestre non erano sempre dello stesso colore la sua conoscenza riguarda persone morti ad avvenimenti ad avvenimenti da lungo dimenticati veniva giudicata innaturale ed egli scomparve quando cominciò la caccia alle streghe e non si seppe più nulla di lui necromante e resuscitatore di morti a tempo perso che bel posto Selem che poi in realtà sono tutte balle erano tutti casi di intossicazioni da segale e cornuta che provocava allucinazioni come la piaga del ballo la piaga? la piaga del ballo ah ok anche per quello si diceva che ci fosse la segale e cornuta come spiegazione si per chi non lo sapesse la segale e cornuta è questo frumento che si è ingerito causa forti allucinazioni cose così ovviamente questi deliri venivano presi per il demonio esatto e soprattutto c'era come dire anche lo zampino magari a volte di un fungo perché la segale normale non è la segale normale questa invece che aveva appunto questo fungo qui era la segale e la segale incorruta quindi proprio cambiava anche la forma del frumento ringrazio ancora Lucarelli e Picozzi per la per la l'insegnamento perché parlano di Selem parlano di Selem ma parlano anche della piaga del ballo a Strasburgo nel 1518 in cui appunto la gente cominciava a ballare dal nulla e non si fermava più eh sì a quell'epoca anche Joseph Kerwin partì ma si venne a sapere ben presto del suo trasferimento a Providence Simon Horn visse a Selem fino al 1720 quando il fatto che non invecchiava cominciò a richiamare l'attenzione allora scomparve ma 30 anni più tardi si presentò un suo perfetto sosia nonché se licente figlio a pretenderne l'eredità sappiamo invece da quello dalle cose precedenti che era sempre lui era sempre lui che si spacciava per suo figlio la sua richiesta venne considerata legale sulla base di documenti di pugno di Simon Horn e Jedediah Horn continuò ad abitare a Selem fino al 1771 quando certe lettere inviate da alcuni cittadini di Providence al reverendo Thomas Barnard e ad altri provocarono il suo segreto allontanamento in luoghi ignoti certi documenti riguardanti direttamente o indirettamente tutte queste strane storie erano disponibili all'Essex Institute al Palazzo di Giustizia e all'Ufficio del Registro e comprendevano sia innocue banalità come atti di proprietà e di vendita sia frammenti misteriosi di natura più interessante buonasera Alberto buonasera si trovarono anche 4 o 5 allusioni a quelle storie negli atti dei processi alle streghe un certo Eziba Lawson giurò il 10 luglio 1692 davanti alla corte di Oire Terminen e dal giudice Hawthorne che 40 streghe e l'uomo nero si incontravano nei boschi dietro la casa di Mr. Atkinson una certa M.T. Howe dichiarò durante la seduta dell'8 agosto preseduta dal giudice Gedney che Mr. G.B. George Burrow quella notte pose il marchio del diavolo su Bridget S Jonathan A Simon O Deliverance W Joseph C Susan P Metteable C e Deborah B poi c'era un catalogo della misteriosa biblioteca di Hutchinson che era stato trovato dopo la sua scomparsa e un manoscritto incompleto nella sua grafia scritto in un linguaggio cifrato che nessuno era stato in grado di capire Ward ordinò una copia fotostatica di questo manoscritto e cominciò a lavorare sul linguaggio cifrato non appena la copia gli arrivò dopo il successivo mese di agosto i suoi tentativi di interpretare il linguaggio cifrato divennero intensi e febbrili e dai suoi discorsi e dal suo comportamento c'è ragione di credere che ne avesse trovato la chiave prima di ottobre o novembre non disse mai comunque se il suo lavoro era stato coronato dal successo ma di grande interesse immediato fu il materiale di Orna a Ward occorse pochissimo tempo per provare attraverso per provare attraverso l'identità della grafia quello che egli già considerava certo sulla base del testo della lettera a Kerwin vale a dire che Simon Orne e il suo ipotetico figlio erano la stessa persona come Orne aveva detto il suo corrispondente era pericoloso vivere troppo a lungo a Selen di conseguenza era ricorso a un soggiorno all'estero per trent'anni ed era tornato a reclamare i propri beni solo come rappresentante di una nuova generazione Orne era stato evidentemente molto attento nel distruggere la maggior parte della sua corrispondenza ma i cittadini che agirono nel 1771 trovarono e conservarono qualche lettera qualche documento che aveva suscitato la loro meraviglia c'erano delle formule misteriose e dei diagrammi nella sua grafia e in altre che Ward copiò o fece fotografare è una lettera estremamente misteriosa in una grafia in cui il ricercatore riconobbe quella di Joseph Kerwin confrontandola con documenti conservati all'ufficio del registro questa lettera di Kerwin sebbene non portasse l'anno evidentemente non era quella in risposta alla quale Orne aveva scritto la missiva confiscata e da certi indizi Ward riteneva che non fosse di molto successiva al 1750 forse non è fuori luogo trascriverla per intero come esempio dello stile di una persona la cui storia fu così oscura e terribile il destinatario venne apostrofato con il nome di Simon ma un frego Ward non sapeva dire se fosse stato tracciato da Kerwin o da Orne celava la parola Providence primo maggio questa è la lettera di Kerwin fratellilo mio onorato e vecchio amico porgo i miei dovuti rispetti e fervidi omaggi a colui il quale serviamo per il suo eterno potere ho scoperto quello che bisogna sapere intorno al caso di estrema necessità e cosa fare al riguardo non sono disposto a seguirvi all'estero a causa dei miei anni e perché a Providence non si segue l'abitudine della vostra aspra baia di andare a caccia di stranezze e processarle mi occupo di navi e merci e non potrei agire come voi per di più la mia fattoria di Potaxet nei sotterranei a quello che sapete e non aspetterà che io ritorni con un'altra identità ma non sono impreparato per i tempi avversi come vi ho detto e ho lavorato a lungo sul modo di tornare in possesso di quello che si è perso la notte scorsa ho scoperto le parole per evocare Yogsotot ecco eccolo lì scusate ma mi piace tantissimo che sia scritto tipo come se fosse inglese appunto del del 600 700 quindi Yogsotot è ma adoro è bellissimo perché se guardate la lettera la metto in originale è tutto in inglese del 700 guardate come è scritto aspetta che ti metto tutto a schermo oh cos'è guardate che è bello l'inglese di una volta eh certo inglese shakespeariano quasi ovviamente c'è anche Yogsotot Davide però anno senza H mi fa male anno senza H mi fa male porca miseria come ho detto le freddure le sopporto ma gli errori di grammatica no e comunque Yogsotot non è esattamente neanche lui così tranquillo no io so solo che cioè per certe cose per come erano scritte lì era addirittura middle english qualcosa eh addirittura eh sì tipo how invece di have chissà come sarebbe tradizionato in fiorentino del settecento aiuto quindi ho scoperto le parole per evocare Yogsotot ed ho visto per la prima volta quella faccia di cui parla Ibn Shakab 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 Ibn Shaka che ha chiesto qua credo che sia la il nome che usava nel settecento per l'autore del Necronomicon credo Abdullah Lazare credo che sia un altro nome suo presumo perché il nome è arabo quindi o lui o qualcuno della sua combricola probabilmente vado a fare un po' di ricerche intanto ok ed egli ha detto che il terzo salmo nel liber damnatus ha la chiave con il sole in quinta casa Saturno in terza tracciare il pentacolo di fuoco e ripetere per tre volte il nono verso ripetere questo verso ogni giorno della Santa Croce ogni giorno d'ogni santi e la cosa verrà generata dalle sfere esterne e dal seme del che c'è scusa il giorno della Santa Croce io ce l'ho tradotto come 15 settembre quindi abbiamo una cosa tipo temporale ok 15 settembre giorno della Santa Croce ho scoperto sono andato a fare un attimo di ricerche Ibn Shah è un mago arabo citato nel Necronomicon come un'autorità sui culti antichi anche Abdur Al-Azray dice ok questo è più bravo di me ah quindi era ulteriormente sopra di grado questo è più bravo ok bellissimo lo ricordavo bellissimo bellissimo e dal seme del vecchio nascerà colui che guarderà indietro sebbene non saprà che cosa cerca eh cosa ma tutto questo sarà inutile se non c'è un erede o se i sali o il modo di prepararli non fossero a sua disposizione e a questo punto devo ammettere che non ho fatto i passi necessari e che non ho scoperto molto il procedimento è difficile da realizzare e consuma una quale quantità di campioni che mi è difficile procacciare nonostante i marinai che mi arrivano dalle inti i vicini stanno diventando curiosi ma riesco a tenerli lontani e beh ci credo voglio dire scompaiono reggimenti scompaiono mucche scompare di tutto allora dobbiamo fare esperimenti umani per capire come reincarnarsi quindi dobbiamo darci dentro ah che bello che era il 700 l'ocraziano ah eh ci si ammazzava dalle risate o ci si ammazzava no ci si ammazzava punto anche quest'anno a Providence ci si ammazza dalle risate no no ci si ammazzava basta esatto ah il caro Charles Ward i signori sono peggiori del popolo perché sono più precisi nei loro resoconti e le loro parole vengono credute il parroco e quel merit hanno detto qualcosa temo ma finora nulla di pericoloso le sostanze chimiche sono facili da ottenere visto che in città ci sono due ottimi farmacisti il dottor Bowen e Sam Kerou questo pezzo mi ricorda dottor Jekyll e Mr. Hyde sostanze chimiche uno di nome Karou che è quello che Hyde ammazza mi fa pensare sarà stata una citte no potrebbe essere un rimando potrebbe essere secondo voi l'aveva letto Jekyll e Hyde l'Holcroft si 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 assolutamente provate il protagonista di un racconto lo cattivano dobbiamo essere impazzito mamma mia no non mamma mia come sto ma ah lì c'è una finestra bene mi butto perché ho sempre in mente Dagon oddio aiuto la finestra la finestra tra poco mi butterò dalla finestra per portare con me nella tomba quello che ho scoperto ma prima lascio un bel resoconto scusa allora se esatto e poi io e poi io me lo immagino che si butta fuori tipo alla Scott Pilgrim versus the world ma io me lo immaginavo tipo all'esorcista o anche alla Denetor se vuoi tanto sempre gente che si butta giù gente che ha lobby del paracadutismo senza paracadute sto seguendo le istruzioni di Borellus e trovo grande aiuto nel settimo libro di Abdullah Lasred ah quindi nel settimo libro del Necronomicon eccolo qua qualsiasi cosa scoprirò vi sarà data e nel frattempo non trascurate di usare le parole che vi ho dato qui sono quelle giuste ma se desiderate vederlo servitive di quelle scritte sul frammento di che alleggo alla lettera ripetete i versi ogni ora della Santa Croce ed ogni santi e se la vostra stirpe non si estinguerà negli anni a venire nascerà colui il quale guarderà indietro e userà i sali o il preparato per i sali che gli saranno stati lasciati Giobbe 1414 quindi quindi se se volete evocare Yogsotot queste sono le istruzioni e signor Kerwen ha un discendente che può prepararsi per accoglierlo no? già 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 sono felice che siate tornato a Selem e spero di vedervi tra breve ho un ottimo stallone sto pensando di prendere una carrozza visto che ce n'è già una quella di Merritt a Providence sebbene le strade siano pessime se siete disposti a viaggiare non passate da qui senza venirmi a trovare da Boston prendete la strada della posta e attraversate Dedham Wrentham e Attenborough in tutte queste città ci sono ottime taverne fermatevi a quella di Bolcom a Wrentham perché ha letti migliori di quella di Hatch ma mangiate nell'altra taverna perché la cucina è migliore e pure la guida Michelin gli ha fatto la guida Michelin del Massachusetts alle cascate di Potax svoltate per Providence e prendete la strada subito dopo la taverna di Sales la mia casa è di fronte alla taverna di Epentus Olney alla fine di Town Street la prima sul lato nord di Olney Kurt la distanza da Boston è di circa 44 miglia il vostro vecchio e vero amico e servitore nel nome di Almonsin Vado a prendere edizione annotata vado a fare ricerca anche in questo caso ok a Mr. Simon Horne William S. Lane S.E.L.E.M. Questa lettera strano a dirsi fu il primo documento in cui Ward trovò citata l'esatta ubicazione della casa di Curwen a Providence infatti nessuna delle carte trovate fino a quel momento erano state precise riguardo questo particolare la scoperta fu doppiamente sconvolgente perché permetteva di individuare la seconda casa di Curwen costruita nel 1761 al posto della vecchia in un edificio in rovina che si ergeva ancora a Dolney Kurt e che era ben noto a Ward dalle sue scorribande nell'antichità della Stamper's Hill la costruzione si trovava solo a pochi isolati di distanza dalla sua casa posta nella parte più alta della grande collina ed ora era abitata da una famiglia nera molto apprezzata per lavori domestici saltuari pucato pulizia della casa cura della caldaia bravo bravo andiamo nelle colonie dove cazzo siamo finiti in Rhode Island è colpa mia se non ci sono i sediamenti in sto posto allora a quanto pare mi citavo benissimo scusate a quanto pare è un nome colorato della lettera di Dio e dell'angelo dell'angelo Metatron tratto da un grimorio che in teoria almeno da doveva essere dalla data che ha scritto è un grimorio del Cinquecento ma facendo perizie probabilmente è un grimorio fatto nell'Ottocento di sana pianta per diventarsi un grimorio bello ciao Pami buonasera buonasera Pami tanto perché ormai stiamo cioè Anfonsin non me lo ricordo Metatron si si Metatron un altro un altro dei nomi degli angeli della cabala è Sephiroth ve lo dico si si Sephiroth è il nome di un angelo nel manuale dei mostri dell'apocalisse ci sono entrambi bene Metatron è anche in Good Omens è da Rec Jacobi assolutamente sì infatti speravo di ricordarmi perché appunto siccome Good Omens 2 mi aveva come dire fatto andare in orbita con questa cosa degli angeli mi era informata avevo scoperto anche quelli della cabala il problema è che non mi ricordo di altri non è un transformer non è un transformer Metatron per quanto per quanto il nome sembri effettivamente ah e tra l'altro in Good Omens era Derek Jacobi in Dogma era Alan Rickman era Alan Rickman Metatron era Alan Rickman esatto ed è anche uno dei personaggi più stronzi di Supernatural sappiatelo però l'attore è bravo ma in Supernatural hanno messo di tutto Supernatural è diventato la parodia di se stesso ma a quanto pare la gente va bene così era in Supernatural quando ancora si stava riprendendo dallo schifo dei Leviatani quindi era già eravamo siamo caduti in piedi ve lo dico con Metatron siamo caduti in piedi ma infatti Vidomo nera l'ho detto io perché ovviamente Lovecraft usa il suo solito termine che non posso ripetare qua trovare nella lontana Selem una prova così inaspettata dell'importanza di quella catapecchia nella storia della sua famiglia fu veramente impressionante per Ward ed egli decise di esplorare il posto non appena fosse tornato i brani più mistici della lettera che egli prese per uno stravagante genere di parabole lo lasciarono sinceramente perplesso sebbene notasse con un fremito di curiosità che il versetto biblico Giobbe 14,14 con cui si riferiva nella lettera con cui ci si riferiva nella lettera era quello ben noto se l'uomo muore può egli tornare in vita? Aspetterò tutti i giorni del tempo che mi è stato dato finché arriverà l'ora del mio cambio ok è veramente un verso della Bibbia questo? probabilmente sì probabilmente è da Giobbe dal libro di Giobbe mi fido abbastanza che non lo so a memoria ma mi fido abbastanza che sia dal libro di Giobbe che è uno dei profeti Giobbe sì il giovane Ward tornò a casa in uno stato di piacevole eccitazione e passò il sabato seguente in un esame lungo ed esauriente della casa di Olney Kurt l'edificio cadente per la vecchiaia non era mai stato un palazzo ma una modesta casa di legno due piani e un ammezzato del tipo che era comune a Providence del periodo coloniale nella Providence del periodo coloniale il portale artisticamente scolpito con la lunetta il frontone triangolare e le belle colonne doriche aveva subito poche alterazioni all'esterno e Ward ebbe la sensazione di guardare qualcosa di molto vicino al sinistro oggetto della sua ricerca perché voi sapete il libro di Giobbe io penso a Giobbe 3,14 quello di Michel Possimo Giobbe 3,14 il primo Michel Possimo conosceva bene gli attuali inquilini e il vecchio As e la robusta moglie Anna gli mostrarono con gentilezza all'interno della casa qui c'erano più cambiamenti di quanto indicasse l'esterno e Ward notò con dispiacere che più della metà dei bei pannelli ornati di volute che una volta erano di sopra dei camini ora erano scomparsi così come non si vedevano più gli intagli a forma di conchiglia degli stipi a muro la maggior parte dei bei rivestimenti e delle modanature in legno poi era segnata intaccata e forata o coperta da una brutta carta da parati in generale l'ispezione della casa non rivelò quello che in qualche modo si era aspettato a Ward ma fu per lui eccitante trovarsi fra quei muri ancestrali che avevano ospitato un uomo orribile come Joseph Kerwin vide con un fremito che un monogramma era stato cancellato con cura dall'antico batacchio d'ottone da quel momento fino alla chiusura della scuola Ward passò tutto il suo tempo a studiare la copia fotostatica del manoscritto cifrato di Hutchinson e ad accumulare informazioni su Kerwin la prima attività si rivelò vana si rivelò vana ma rinvenne molte notizie e numerose indicazioni per cercare altre informazioni altrove così che fu presto pronta a partire per New London e New York per consultare vecchie lettere la cui presenza era segnalata in quelle due città questo viaggio si rivelò molto produttivo perché gli procurò le lettere di Fenner con la loro terribile descrizione dell'attacco alla fattoria di Potaxet e l'epistolario Nightingale Talbot la cui apprese del ritratto dipinto su un pannello della biblioteca di Kerwin la faccenda del ritratto lo interessò particolarmente visto che avrebbe dato tutto solo per sapere quale fosse stato l'aspetto di Joseph Kerwin decise però di fare una seconda ricerca nella casa di Olneykert per vedere se non ci fossero tracce dell'antico ritratto al di sotto degli strati di pittura scrostata o di parati ammuffiti questa ricerca si svolse all'inizio di agosto Ward esaminò attentamente le pareti di ogni stanza che avesse dimensioni tali da poter essere stata la biblioteca del malvagio costruttore prestò un'attenzione particolare ai grandi pannelli che restavano ancora al di sopra dei camini e dopo circa un'ora scoprì con un'eccitazione che una grande area al di sopra del camino in una spaziosa stanza del pianterreno era più sicura di una normale pittura per interni o di un qualsiasi legno da rivestimento una volta scrostati numerosi strati di vernice fu sufficiente qualche altra prova con un sottile coltellino e Ward capì di essersi imbattuto in un ritratto a olio di grandi dimensioni con una freddezza davvero studioso il giovane non rischiò di danneggiare il dipinto nascosto cercando di portarlo immediatamente alla luce con la lama del coltello ma si allontanò dal luogo della scoperta per chiedere aiuto a un esperto dopo tre giorni tornò con un artista dalla grande esperienza Walter Dwight il cui studio si trovava ai piedi della College Hill la bellissimo restauratore di dipinti si mise subito all'opera con la tecnica e le sostanze chimiche giuste il vecchio Asa e sua moglie erano eccitati dalla presenza di quegli strani visitatori e furono generosamente rimborsati per l'invasione del loro focolare domestico giorno dopo giorno l'opera di restaurazione procedeva e Charles Ward guardava con interesse crescenti alle linee e dalle ombre che a poco a poco venivano alla luce dopo un oblio di secoli Dwight aveva cominciato dal fondo perciò visto che il ritratto era di tre quarti la faccia fu visibile solo dopo qualche tempo nel frattempo si poteva notare che il soggetto era un uomo magro ben formato con un vestito blu scuro un panciotto ricamato pantaloni di satin nero stretti al ginocchio e calze bianche di seta seduto su una sedia intagliata sullo sfondo di una finestra dalla quale si vedevano bambini e navi quando apparve la testa si vede che portava una semplice parrucca com'è che si dice questa parola? Albemarle Albemarle ammetto che è una parola che non ho mai sentito neanche io sto andando a suono credo che sia un tipo di parrucca sufficientesca ammetto è la prima volta che sento il termine si parlano sempre parole nuove vado a cercare tra l'altro la copertina del primo video di Charles Dexter Ward che ha Joseph Curven appunto gli ho messo ha proprio questo tipo di ritratto tra virgolette una riproduzione di questo tipo di ritratto non lo so non trovo niente forse è un luogo ok scusate 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 e che aveva un volto sottile composto dai tratti comuni composto dai tratti comuni che parve familiare sia a Ward che all'artista solo alla fine però il restauratore il restauratore il suo cliente restano una bocca aperta davanti ai particolari di quel volto pallido e scarno e contemplarono con un fremito di paura lo scherzo che aveva giocato l'ereditarietà fu necessario il bagno finale nell'olio e l'ultima passata delicata di raschietto per portare pienamente alla luce l'espressione che i secoli avevano celato e lo stupefatto Charles Dexter Ward visitatore del passato vide i propri tratti nel volto del suo orribile antenato sono identici è come guardarsi allo specchio hanno la stessa faccia evviva anche questo è un bel indizio su quello che succede perché mai hanno la stessa faccia e poi dopo Ward portò i suoi genitori a vedere la meraviglia che aveva scoperto e suo padre decise subito di acquistare il dipinto nonostante fosse realizzato su un pannello fisso tagliamovi al muro la somiglianza con il ragazzo nonostante l'aspetto più anziano dell'uomo del ritratto era meravigliosa ed era chiaramente visibile che grazie a qualche scherzo dell'ereditarietà le caratteristiche fisiche di Joseph Kerwin erano state duplicate perfettamente dopo un secolo e mezzo la rassomiglianza della signora Ward con i suoi antenati non era affatto evidente sebbene la donna ricordasse dei parenti che avevano alcuni dei tratti comuni a suo figlio e al remoto Kerwin non fu contenta della scoperta e disse al marito che avrebbe fatto meglio a bruciare il dipinto invece che portarlo a casa affermava che nel ritratto c'era qualcosa di malsano non solo intrinsecamente ma anche nella sua somiglianza con Charles signora signora se lo lasci dire lei è intelligente lei ha capito tutto signora lei ha capito tutto c'è qualcosa di strano e di misterioso bruciamo tutto non immischiamoci io sarei stato molto più come Ward cioè è una cosa antica che potrebbe essere maledetta la porto nel mio nuovo studio subito io non ci vengo più a trovarti a casa che poi mi ritrovo le maledizioni sapete chi sarò io un giorno sarò come quei personaggi che sarò io a dover scrivere la testimonianza e qui in quest'ora buia mentre i ricordi mi attanagliano la mente che mi accingo a scrivere il resoconto delle ultime ore di vita di Dario Martini scomparso in circostanze poco chiare quello che ho visto quella notte nel suo studio non me lo scorderò mai vedete io sarò quello sfigato che deve scrivere il resoconto mentre dare quello che a un certo punto sparirà è perché ha evocato demoni probabilmente c'è robe strane nello studio lo ritroverò nello studio tutto pallido tutto smorto con gli occhi fuori dalle orbite mentre dice sono all'orno di una grande scoperta sarà bellissimo questo è quello che succede quando leggi Lovecraft per un po' di mesi un racconto dopo l'altro cosa succederà invece a voi nelle prossime domeniche boh lo vedremo giusto per rimanere in tema ma non lo so il mio personaggio ha scoperto di essere incappato nel culto del re in giallo quindi voglio dire tante risate Mr. Ward però era un pratico uomo d'affari un industriale del cotone con numerose fabbriche a Riverpoint e alla Potaxe Valley e non era il tipo da dare ascolta alle paure di una donna come sempre sono tutte balle il ritratto gli fece una grande impressione data la somiglianza che aveva con suo figlio e riteneva che il ragazzo meritasse un regalo simile quest'opinione superfluo dirlo era condivisa di cuore da Charles beh figliolo volevo pagarti un ritratto volevo commissionare un tuo ritratto come regalo ma guarda ce n'è già uno pronto preciso di uno che evocava divinità che era meglio non evocare e risuscitava i morti ma insomma si può avere tutto dalla vita pochi giorni dopo Mr. Ward rintracciò il proprietario della casa un ometto dalla voce gutturale dalla faccia di roditore che è Peter Minus e ottenne sia la mensola sia il pannello sovrastante il camino in cui era dipinto il ritratto ad un prezzo che tagliò corto ogni possibile lungo e untuoso mercanteggiamento non restava che staccare il pannello e portarlo a casa dei world dove erano stati fatti tutti i preparativi per un suo completo restauro e per l'installazione su un caminetto elettrico nello studio biblioteca di Charles che si trovava al primo piano questo è dove ci sarà la tua roba nel tuo studio al primo piano al primo piano sì Charles the third floor study credo che third floor sia il terzo piano questi manco o il secondo no third e terzo third e terzo ok ma in America non è il primo piano nel piano terra esatto è vero allora quindi è il secondo piano per i nostri ma non cambia niente comunque punto quindi vabbè vabbè lasciamo perdere comunque questo sei tu eh lo studio ti porta il tuo ritratto nello studio Dario come stai al terzo piano da me hanno tradotto direttamente cioè proprio se ne sono fregati piano terra primo piano non ce ne frega niente scusa Charles comunque Giacomo adesso nei prossimi mesi appena è pronto tutto andiamo a scegliere cose della libreria andiamo via da media o dall'antiquardio e vediamo se c'è qualche bel mobile con una storia strana da portarci a casa col cazzo no no con le mani lo compri con i soldi lo porti con le mani non è quello il senso non è quello il senso roba strana e demoniaca te la porti tu a casa io non ci voglio avere niente a che fare io non ci voglio avere niente a che fare infatti io sarò quello che sopravvive nelle storie di Loth e tu sei quello che invece verrà trascinato via da ghoul da demoni o probabilmente ti ritroveranno ridotto in poltiglia in gelatina eh ma se devo tutto se mi prendono per il ghoul è un casino andiamo avanti andiamo avanti che fie cominciano sulle 10 10 giustamente abbiamo ancora tanto da leggere guardate abbiamo tantissime tra poco mi dai il cambio Sara si 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 ti dico guarda dei luoghi dove di resta di quelli che visitò chi conobbe ciò che apprese esattamente lì è dove finisce lì è dove finisce il mio la parte 2 e poi comincio io anche il mio anche il mio c'è un punto fisso a Charles fu lasciato il compito di sovrintendere alla rimozione e il 28 agosto il ragazzo accompagnò due operai della ditta di decorazioni Croker nella casa in Olnikert dove la mensona e il pannello sovrastante il caminetto furono staccati con grande cura e precisione per essere trasportati con il furgone della ditta dietro al ritratto restò uno spazio di mattoni scoperti che segnavano il tracciato della canna fumaria e lì il giovane Ward osservò una cavità cubica di circa 30 centimetri di lato che doveva trovarsi proprio dietro la testa del ritratto curioso riguardo a cosa significasse o cosa contenesse quello spazio il giovane si avvicinò e guardò all'interno sotto il profondo strato di polvere di fuliggine il ragazzo trovò alcuni fogli sciolti e ingialliti un quaderno rozzo e spesso ed alcuni frammenti di tessuto ammuffito che forse formavano il nastro che legava foglie e quaderno insieme soffio via la maggior parte della polvere della cenere poi prese il quaderno e guardò il titolo tracciato in una grafia ferma e chiara sulla copertina con la scrittura Ward aveva imparato a riconoscerla all'Essex Institute il titolo diceva diario appunti di Joseph Kerwin gentiluomo della colonia di Providence proveniente da Salem e citato oltre ogni limite dalla sua scoperta Ward mostrò il quaderno ai due perai che gli erano accanto la loro testimonianza guardate guardate la loro testimonianza sulla natura e sulla genuinità della scoperta è sicura e indubitabile e il dottor Willett si basa sulle loro affermazioni per corroborare la teoria che il giovane non era pazzo quando cominciò a mostrare le sue eccentricità più rilevanti no non era pazzo piccolo spoiler il poveretto non era pazzo era morto era un po' morto non era pazzo era morto poveretto anche tutte le altre carte erano scritte nella grafia di Kerwin e una di esse aveva un'area particolarmente importante a causa del titolo a colui che verrà dopo e in che modo può andare al di là del tempo e delle sfere ho errato fuori dal pensiero e dal tempo come sempre quelli si sono copiati qualcosa quello qualcosa ha detto quello qualcosa ha detto non ce l'aveva in biblioteca ma l'ha preso a prestito quello l'ha preso a prestito qualcosa ha detto io non ci casco qualcosa ha detto qualcosa dai certe volte le coincidenze sono inquietanti sono inquietanti un'altra era cifrata Ward sperava che fosse lo stesso linguaggio cifrato usato da Hutchinson che fino a quel momento era rimasto impenetrabile un terzo foglio di cui il ricercatore gioì sembrava la chiave del linguaggio cifrato mentre il quarto e il quinto erano inderezzati rispettivamente a Edward Hutchinson nobili uomo e egregio del Jedediah Orn oppure ai loro eredi o a loro erede o a coloro che li rappresentano il sesto e ultimo portava la seguente intestazione Joseph Kerwin la sua vita e i suoi viaggi tra gli anni 1678 e 1687 dove viaggiò dove soggiornò chi vide e cosa apprese abbiamo trovato tutti i documenti del signor ha fatto Extreme Success su Spottedden eh sì e adesso come al solito quando fai Extreme Success non hai detto che sia un bene perché inizi a studiare cose che forse era meglio non studiare professore lei come un certo dottore americano di racconti e teori scomparso prematuramente di nome H.P. Lovecraft no 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 strano se volete approfondire i libri che ha letto Tolkien vi consiglio questo che è del professor di Oronzo Cilli la Tolkien's Library annotato 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 checklist che ha dentro è in due parti sia i volumi certi che Tolkien aveva sia quelli supposti in base alle sue citazioni o quant'altro comunque che aveva letto magari presi in prestito chi lo sa però che lui cita e non erano nella sua libreria quindi probabilmente li aveva recuperati per via traverso comunque li aveva letti ovviamente non sono libri supposti da altri studiosi che hanno detto da questo testo si può presumere che abbia letto anche questo però non ci sono prove quindi c'è tutto un elenco bellissimo perfetto io Lovecraft ce lo aggiungerei sì Sara no niente ho alzato la mano tra l'altro vi dico il mio braccio mi sembra tipo qualcosa di boh dismorfia assurda io mi chiedevo invece se Dunsany era tra quelli certi o tra quelli presunti Lord Dunsany vado a cercare subito vado a cercare subito quasi quasi io nel frattempo comincio a leggere se voi i miei colleghi e la chat mi danno l'ok se la chat è tutto a posto non ci sono domande e tutto possiamo possiamo proseguire è certo perché Dunsany è citato esplicitamente in lettere varie da Tolkien che ne cita alcune alcune titoli opere e dice l'ho letto molti anni fa quindi sì Dunsany è certo che l'abbia letto perché è lui stesso che lo dice Siamo arrivati al punto al quale gli alienisti di scuola più tradizionale fanno risalire la follia di Charles Ward dopo la scoperta il giovane aveva scorso immediatamente alcune pagine del diario e dei manoscritti scorgendovi qualcosa che doveva averlo impressionato moltissimo infatti nel mostrare i reperti agli operai aveva esaminato il testo con eccezionale attenzione e gli uomini avevano avuto l'impressione che Ward fosse in preda a uno stato di agitazione che neppure l'importanza antiquaria e genealogica della scoperta poteva giustificare tornato a casa riferì la notizia ai genitori con un'aria di imbarazzo come se volessi comunicare la sua estrema importanza senza mostrarne le prove si rifiutò di far vedere i documenti e si limitò a dire che aveva trovato certe carte scritte da Kerwin di suo pugno per lo più in codice e che richiedevano studi laboriosi per decifrarne il contenuto è improbabile che Ward avesse mostrato le carte agli stessi operai ma la curiosità di quelli era stata troppo palese stando così le cose il giovane aveva voluto evitare di mostrarsi reticente per non aumentare l'interesse dei due quella notte Charles Ward rimase nella propria stanza a leggere il diario e gli altri documenti e non smise neppure a giorno fatto quando sua madre venne a vedere come stesse Ward la pregò vivamente di mandargli i pasti in camera e così fu fatto nel pomeriggio uscì solo quando gli uomini vennero a installare il quadro di Kerwin e la mensola del camino la notte seguente dormì solo a tratti completamente vestito e per il resto del tempo lottò alla decifrazione del manoscritto in codice al mattino sua madre vide che non era al lavoro sulla copia fotostatica del cifrario Hutchinson che Charles le aveva più volte mostrato in risposta alle sue domande egli disse che il codice Kerwin non adoperava lo stesso sistema quel pomeriggio il giovane abbandonò il lavoro e osservò affascinato gli uomini che completavano l'installazione del quadro sul realistico caminetto elettrico la mensola e il fregio superiore furono sistemati in modo da essere un po' discosti dalla parete nord come se dietro ci fosse la canna fumaria e i lati furono coperti da pannelli identici a quelli della stanza il pannello frontale quello su cui era dipinto il ritratto fu segato e munito di cardini in modo da diventare lo sportello di una piccola alcova quando gli operai se ne furono andati Ward trasferì tutti i documenti nello studio e sedette di fronte al cammino con gli occhi ora sul cifrario e ora sul ritratto che lo fissava come uno specchio d'altri tempi nemento dei secoli cercando di ricostruire la condotta di Charles in quel periodo i genitori forniscono interessanti particolari sulla sua nuova reticenza in presenza dei servitori Ward raramente nascondeva i documenti a cui sta lavorando perché giustamente pensava che l'arcaica e intrigata graffia di Kerwen fosse loro del tutto incomprensibile con i genitori invece era piuttosto circospetto e a meno che il manoscritto in questione fosse in codice o addirittura un ammasso di simboli misteriosi e ideogrammi sconosciuti come quello intitolato a colui che verrà dopo di me eccetera Charles aveva preso l'abitudine di coprire il testo con un foglio di carta fino a quando il visitatore non fosse andato via ben presto il giovane riprese le abitudini e gli orari normali salvo per il fatto che le lunghe passeggiate e gli altri interessi esterni persero l'importanza di una volta la riapertura della scuola dove ormai frequentava l'ultimo anno sembrò costituire per Ward un grande fastidio e più volte affermò di non avere alcun interesse a iscriversi all'università doveva compiere una serie di ricerche speciali disse che gli avrebbero aperto molte più strade verso la conoscenza e le scienze umane di qualsiasi università sulla faccia della terra scusate scusate l'ho letta male che gli avrebbero aperto molte più strade verso la conoscenza e le scienze umane di qualsiasi università sulla faccia della terra solo un individuo che era sempre stato più o meno noto come uno studioso un eccentrico e uno solitario avrebbe potuto permettersi un comportamento del genere senza arrestare sospetti per molti giorni per fortuna Ward era un'eremita e un uomo di studio per sua intima costituzione i genitori quindi furono meno sorpresi che dispiaciuti dal comportamento furtivo quasi da recluso che il ragazzo aveva adottato inoltre sia il padre che la madre trovavano strano che Charles non li rendesse partecipi delle sue magnifiche scoperte e non rivelasse ciò che aveva decifrato fino a quel momento Ward si difese spiegando che voleva aspettare fino a quando potesse annunciare qualcosa di concreto ma col passare delle settimane e in assenza di qualsiasi confidenza tra il giovane e la famiglia cominciò a formarsi una sorta di malinteso che nel caso della madre era acuito dalla sua intensa disapprovazione per tutto ciò che aveva a che fare con Corwin nel mese di ottobre Ward riprese a frequentare le biblioteche anche se non più per arricchire le sue conoscenze antiquarie come una volta gli argomenti che lo occupavano adesso erano stregoneria e magia occultismo e demonologia e quando le fonti disponibili a Providence si dimostravano insufficienti prendeva il treno per Boston e andava a soddisfare la sua curiosità nella grande biblioteca di Copley Square nella Widener Library della Harvard oppure alla Zion Research Library di Brooklyn dove erano disponibili i rari testi di argomento biblico scusate si più Ward comperava molti volumi e dovette aggiungere una nuova libreria nello studio per ospitare le opere di argomento magico che costituivano il suo nuovo interesse durante le vacanze di Natale poi fece una serie di viaggi fuori città compresa un'escursione a Salem per consultare certi documenti custoditi all'SX Institute comunque lui che lui che cerca libri strani deve comprare un'altra libreria per accogliere i libri qui ci starebbe il meme di 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 verso la metà del gennaio 1920 affirò nell'atteggiamento di Ward un senso di trionfo che egli non cercò di giustificare. Sta di fatto che nessuno lo vide più al lavoro sul cifrario Hutchinson. Fu in quel periodo che il giovane si dedicò a una nuova serie di ricerche chimiche e storiche. Per le prime attrezzò un laboratorio nell'attico di casa ormai in disuso, mentre per le seconde attinse a tutte le fonti documentate e statistiche di Provenance. I rivenditori locali di farmaci e apparecchi scientifici, interrogati in seguito, fornirono elenchi straordinari ma previ di significato delle sostanze e degli strumenti che Charles Ward aveva ordinato. Viceversa, gli impiegati della State House, del municipio ed alcune biblioteche concordano sull'oggetto ben preciso del secondo interesse. Ward cercava con un'intensità addirittura febbrile la tomba di Joseph Kerouin, dalla cui lapide, una generazione dopo, era stato saggiamente cancellato il nome. A poco a poco i genitori si convinsero che c'era qualcosa che non andava. Già in passato Charles si era comportato stranamente e aveva cambiato interessi, ma sempre in cose di poco conto. La crescente segretezza, la profondità con cui era assorbito dalle sue strane ricerche, non erano normali neppure in un tipo come lui. Il lavoro scolastico era ormai ridotto al minimo e perché Charles riuscisse a non prendere insufficienza nei compiti, era chiaro che l'applicazione di una volta era svanita. Altre sembravano le sue preoccupazioni e quando non era in laboratorio con una ventina di vecchi trattati alchemici lo si poteva trovare immerso sugli antichi certificati di sepoltura della città o incollato ai volumi dell'occulto che accumulava nello studio, dove il volto di Joseph Kerouin, che gli sorgnava in modo straordinario e si sarebbe detto sempre più accentuato, lo fissava blandamente dal grande fregio che sovrastava il cammino sulla parete nord. Verso la fine di marzo, alle ricerche condotte negli archivi Word affiancò una serie di macabre spedizioni negli antichi cimiteri della città. La causa fu evidente in seguito, quando da impiegati del municipio si apprese che il giovane aveva trovato probabilmente un indizio importantissimo. Le ricerche si erano improvvisamente spostate dalla tomba di Joseph Kerouin a quella di un certo Naftali Field, cambiamento che si spiegò quando gli investigatori, esaminando le informazioni riesumate da Word, scoprirono che il frammento di una testimonianza che riguardava la tomba di Kerouin ed era sfuggito alla generale cancellazione. Secondo questo frammento, la bizzarra barra di piombo sarebbe stata interrata a dieci piedi a sud e cinque piedi a ovest della sepoltura di Naftali Field, Nello. Il frammento non specificava in quale cimitero si trovasse la fosse in questione, il che complicava notevolmente le ricerche. La tomba di Naftali Field sembrava illusiva come quella di Kerouin, ma nel suo caso non era stato fatto alcun tentativo di nasconderne l'ubicazione. Anche se i relativi documenti erano andati perduti, ci si poteva ragionevolmente aspettare di imbattersi nella lapide vera e propria. È questa la ragione dei vagabondaggi di Ward, da cui furono esclusi soltanto il caposanto di St. John, ex-Kingschurchyard, e l'antico lotto congregazionalista nel mezzo del cimitero di Swan Point, perché altri documenti avevano dimostrato che Naftali Field, deceduto nel 1729, era stato di confessione battista. Questa dovrebbe essere la fine del terzo, giusto? Sì, adesso parte il quarto. Prima di andare, scusate, in ultimamente perché si parla di testi antichi, è una notizia che mi è capitata sott'occhio qualche settimana fa, ma volevo dire, ma mi sono dimenticato. Sembra che finalmente, qualche mese fa, si sia iniziato a decifrare qualche, una parola o poche più dei papiri bruciati di Ercolano. Quindi, niente, si parlava di documenti antichi. Volevo darvi questa grande notizia. Perfetto. Per un attimo ho detto che avevano cominciato a decifrare Bojnic. No, no. Hanno usato l'intelligenza artificiale in modo buono e hanno messo i dati a disposizione di tutti e si è riuscito a capire porpora da uno dei papiri bruciati senza srotolarli. Quindi, dai, tra qualche secolo magari avremo tutti i documenti. Provati. I nostri pro-pro-pronipoti no, però comunque è una bella scoperta a livello archeologico. Anche perché sarebbero, se riusciamo a dire cosa c'è dentro, sono tra i pochissimi documenti romani di epoca romana che ci sono pervenuti. Dato che la maggior parte anche dei classici li abbiamo in copie medievali, quindi sarebbe figo. Sarebbe molto figo. Eh sì. E niente, soltanto per dirvi. No, no, una notizia interessante. C'è una notizia interessante. Nel mese di maggio, su richiesta di Ward, padre e forte, di Ward padre e forte dell'informazione sul conto di Kerwin che i genitori erano riusciti a ottenere prima che Charles si chiudesse nel segreto. Il dottor Willett ebbe un colloquio con il giovanotto. La discussione non approdò molto perché il dottore aveva la sensazione che Charles fosse del tutto padrone di sé e si occupasse di questioni molto importanti. Se non altro, tuttavia, costrinse il reticente studioso a offrire una spiegazione razionale del suo recente comportamento. Ward, che apparteneva a quel genere di uomini distaccati e impassibili i quali non cadono facilmente nell'imbarazzo, sembrava disposto a parlare delle sue ricerche pur non rivelandone l'oggetto. Affermò che i documenti del suo antenato contenevano il segreto di notevoli conoscenze scientifiche molte delle quali in codice, la cui apparente portata, era paragonabile solo alle scoperte di Bacone e forse addirittura superiori. Tuttavia, a meno di non metterle in relazione con un corpus di conoscenze ormai del tutto obsoleto, esse non avevano senso. Presentarle senza mediazione a un mondo abituato solo alla scienza moderna sarebbe equivalso a privarle di tutta la loro importanza e drammaticità. Per prendere il posto che meritavano nella storia del pensiero umano, quelle antiche scoperte dovevano essere collegate fra loro da qualcuno che conoscesse lo sfondo da cui si erano evolute e a questo compito Ward si stava dedicando. I suoi sforzi consistevano nell'impadronirsi il più velocemente possibile delle arti dimenticate che un attento interprete delle scoperte di Kerwin doveva senz'altro conoscere. Col tempo, il giovane sperava di presentare e commentare ampiamente il materiale elaborato dall'alchimista materiale che avrebbe rivestito il massimo interesse per l'umanità e il mondo del pensiero. Neppure Einstein, secondo Ward, avrebbe rivoluzionato così profondamente l'attuale visione del mondo. Calma, adesso, calma, calma. Quanto alle ricerche nei camposanti di cui Ward ammise francamente lo scopo ma di cui non rivelò gli ultimi sviluppi, disse che aveva ragione di pensare che la lapide mutilata di Joseph Kerwin recasse certi simboli mistici scolpiti in base a precise indicazioni contenute nel suo testamento e risparmiati per ignoranza da coloro che avevano cancellato il nome, i quali erano assolutamente essenziali per la soluzione del cifrario. Kerwin, secondo Ward, aveva voluto preservare i propri segreti con estrema cura e ne aveva distribuito le chiavi in modo più che bizzarro. Quando il dottor Willett chiese di vedere i misteriosi documenti, Ward mostrò una grande riluttanza e cercò di fuorviarlo sottoponendogli le copie del cifrario Hutchinson e i diagrammi di Ward, ma alla fine gli mostrò all'esterno delle carte che riguardavano Kerwin. il diario et note, il cifrario con il titolo pure in codice e il messaggio pieno di formule indirizzato a colui che verrà dopo di me. Inoltre, gli permise di osservare da vicino quelli che erano scritti in modo più oscuro. Poco dopo, aprì il diario in un punto scelto accuratamente per la sua innocenza e diede a Willett un esempio del corsivo normale di Kerwin. il dottore esaminò attentamente le lettere contorte, complicate ed ebbe l'impressione che la pagina risalisse addirittura il 600. Questo sia per l'aspetto della grafia che per lo stile, nonostante che l'autore fosse vissuto fino al secolo successivo. Willett si convinse dell'autenticità autenticità del documento, benché il testo fosse di per sé banale ed è in grado di ricordarmi un solo passaggio. Mercoledì 16 ottobre 1754. Quest'oggi la mia corvetta Wakeful arrivò da Londra con 20 nuovi uomini raccolti nelle Indie, spagnoli della Martinica e due olandesi del Surinam. I codesti olandesi sembrano ansiosi di desertare avendo udito cose malevole a proposito dei nostri affari. Però io vederò di persuaderli a restare. Merci portate per il signor Knight Dexter dell'esercizio Bay and Book. 120 pezze di cammello, 100 pezze tipo cammello, 20 pezze blu per giocche pesanti, 100 pezze flanella, 50 pezze calico, 300 pezze ciascuna di tessuti misti. Comunque io voglio solo dire che le 100 pezze di flanella in realtà le cose sono solo 50 perché la flanella è sempre più grossa la doppia. Ok. Cheat. A me veniva in mente in realtà la lista del molibdeno. Rame, nitrato di sodio, gomme, sali potassici, gomma, toluolo, trementina, piombo, molibdeno, tungsteno, titanio, 20 tonnellate di zirconio. Ormai quell'elenco è parte del mio cuore. Aspetta, 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 non dirmelo, anche questa è una cheat. Vai. Atlantis? No, Barbero. Barbero, madonna. La lista del molibdeno della seconda guerra mondiale. Ok, ok, e portate pazienza. Ribbentrop guardò la lista e chiese ma entro quando vi serve tutta questa roba? È stato calcolato che ci sarebbero voluti 17.000 treni per mandare tutta quella roba in Italia. Portate pazienza ma per un attimo mi sembra, cioè, può esserci che ci sia una citazione in Atlantis che è simile, un elenco simile? C'è, Vinnie che elenca le sue cosi. Che altro c'è di bello lì dentro? Polvere da sparo, nitroglicerina, micce, stoppini, molla e qualche graffetta di quella grande. Non sono mai capito, forniture per l'ufficio. Ok, ok. Anche se dal tono di voce dovevo riconoscere che era Magister Barbero. E quattro principali gruppi alimentari, fagioli, paggetta, whisky e lardo. Mamma mia. Mamma mia. Vabbè, ero arrivata al molibdeno, no, non è vero, ero arrivata al... Ai tessuti misti. Per il signor Green dell'elefante feci venire 50 galloni di infusi misti. Per il signor Berrigo numerose combinazioni di spezie. Tre volte dissi il sabato la notte scorsa, ma non apparve ad alcuno. Più devo apprendere dal signor H in trasmissioni. Scusa un secondo, per il signor Green soltanto 50 galloni... Ci feci venire 50 galloni di infusi misti per il signor Berrigo numerose combinazioni. No, perché qui nella mia versione c'è un intero elenco anche per il signor Green. 15 Bake Cattles che non so cosa, torte, non so. 10 e adesso non saprei tradurve neanche io. Questa roba non saprei tradurve, dovrei fare delle ricerche. Però c'è un elenco di quattro cose anche per il signor Green. era stranato per farvi per dirvelo. Ok, ringraziamo il traduttore. Secondo me ha tolto proprio perché non sapeva tradurre nemmeno lui. Barra lei. Più devo apprendere dal signor H in Transilvania per difficile che sia raggiungerlo e per estraneo il fatto che non posso consentirmi ancora di adoprare ciò che gli stessi usò con tanto successo per centinaia d'anni. Simone non mi scrive da cinque settimane e però aspetto di sentire più presto sulle notizie. Quando è arrivato a questo punto il dottor Willett volto pagina, Ward lo afferrò bruscamente gli strappò quasi i diari di mano. Tutto ciò che il dottore riuscì a vedere sulla pagina appena aperta un paio di brevi frasi che fatto abbastanza strano rimasero tenacemente impresse nella sua memoria. Eccole. avendo recitato i versi del Liber Damnatus per cinque Natali e quattro vigili doni e santi spero che l'essere sia già cresciuto nelle esterne sfere. Esso guiderà colui che deve venire lo quale si darà grande pensiero per le cose del passato e saprà guardare indietro negli anni e perciò io devo avere pronti i sali o la materia da cui sono fatti. Willett non vide altro ma quell'unica occhiata gli trasmise un nuovo vago terrore del ritratto di Kerwin che le guardava blandamente dal fregio sul cammino. Anche in seguito il dottore conservò la bizzarra sensazione che la sua preparazione medica gli garantiva essere soltanto un'illusione secondo cui gli occhi del ritratto avessero il desiderio se non una vera e propria tendenza a seguire il giovane Ward quando si muoveva nella stanza che ansia è tipo è quello che dicono della Gioconda in teoria può essere non lo so sai potrebbe essere speri ripeti un attimo che mi sono perso allora ti ripeto la frase terminata la frase secondo cui gli occhi del ritratto di Kerwin avessero il desiderio se non una vera e propria tendenza a seguire il giovane Ward quando si muoveva nella stanza è una cosa che io ho sentito dire anche della Gioconda ma non vorrei essermi sì no è vero è vero è vero sì sì c'è questa diceria tra l'altro io non mi vergogno a dirlo che ho provato quando sono andato a vederla all'Uvro ho provato ho provato a spostare non ci sono non ci sono riuscita a perché c'era troppa gente davanti e veramente la Gioconda ragazzi è grande così è poco più di una quattro la Gioconda se non poco meno e più che altro sono stata conquistata dal quadro di Veronese che era esattamente davanti alla Nozze di Cana che prendeva praticamente l'intera parete dell'Uvr non di una parete di casa dell'Uvr si ruba tutte le attenzioni quel quadro se non vanno tutti lì e dietro c'era un tiziano bellissimo mi ricordo qual era forse l'amore sacro l'amore profano bellissimo ma tra l'altro nella galleria di vicino alla Gioconda non c'è anche la zattera della Melusa tanto per citare un altro capolavoro non è sempre lì non credo che sia una galleria alla vicino è un po' più avanti è un po' più avanti comunque non dovrebbe essere lì da qualche parte lì no no è in una galleria dell'Uvr però mi sa che è un po' più avanti perché insieme a quelli francesi del tempo perché sono Cericol e della De La Croix è insieme al giuramento degli Orazzi e insieme a gli Orazzi e i Curiazzi ne parleremo quando faremo storia romana che succede? eccomi no scusate eccomi sono qua sono qua sono qua Sara? Sara? no Sara? no no ecco questa è la faccia che fa Sara quando la connessione fa così ecco questa è una diapositiva di Sara quando si rende conto che la connessione fa la stronza di nuovo notate è successo che ho iniziato a nominare gli artisti francesi coincidenze? no non c'entra niente io non credo non c'entra niente viva la Zata che tra l'altro come dicevamo l'altra sera vi domo non so se la Zata del Musa piace molto a me perché è un quadro molto bello ma a me viene in mente per una cosa comica praticamente tutti da piccoli abbiamo guardato turisti per caso e velisti per caso no? il programma quello con Patrizio Roversi e Susie Blady che giravano il mondo dovevano far velisti per caso dopo turisti cioè andare in giro con la barca a vela e c'era la gag di Patrizio Roversi che diceva ma io non sono tanto sicuro di andare in giro in barca perché mi vedo già come nella Zattera della Medusa e inquadravano la Zattera della Medusa dove c'è sto personaggio che è così effettivamente sembra Patrizio Roversi io ho già i flashback mi immagino già come i naufraghi della Zattera della Medusa e il quadro mi è rimasto impresso per questo motivo qua poi vabbè il quadro bellissimo ovviamente è un quadro molto bello la Zattera della Medusa però mi è rimasto impresso questa vaccata qui con lui che mi invento una scienza diversa con Asteris Obis Missione Cleopatra quella non me la ricordo ma il film o il cartone il film o quello con Tepardieu credo Sara è caduta adesso arriva non è preoccupato che nel cartone animato c'erano i pirati che li riconoscono e si affondano la nave da soli con Obelix che dice ehi i nostri amici pirati oh mio Dio quei galli abbattiamoci la nave da soli allora nel nostro ultimo avventura ci siamo abbattuti in questi in tutti questi due enormi galli e il loro terribile molosso e c'era però in divenienza evitiamo di attaccare le navi romane creando l'esercito e le navi galliche quella ehi quella nave è egiziana bene fantastico attacchiamo quella oh mio Dio i gaga i galli imbroglioni siete dei ecco Sara no stiamo parlando di Asterix e Obelix con i pirati che si affondano da soli la nave quando riconoscono Asterix e Obelix Oddio questa cosa no allora Asterix e Cleopatra l'ho visto ma non me lo ricordo dovrei riguardarmi assolutamente perché io i film di Asterix quando ero piccola li amavo mamma mia cioè proprio li adoriamo qua a casa tipo avevo registrato Asterix il gallico quindi arrenditi a gallinaccio a lungo andare a lungo andare i romani ci rimettono anche il loro latino alea iacta est che stai a di che bello sì la libertà che guida il popolo c'è anche Asterix e Obelix contro Cesare che c'era il romano cattivo fatto da Benigni nel film sì sì Detritus sì non lo ricordo Detritus esatto invece Cleopatra era la Bellucci sì stendiamo un velo pietoso più che altro allora Cleopatra numero Cleopatra quella di Cesare e Marco Antonio è Cleopatra lei non suggerisca signor Giallo non me lo ricordo non me lo ricordo mai il numero di Cleopatra ok bravo Raccoon è Cleopatra settima stavo per dire settima ma mi sa che era perché eri già partito tu Dario stavo partendo mi sono bloccato dietro di cocchi ho detto no 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 cosa stavo pensando io sì no comunque mi faceva morire tantissimo mi sa che era sempre Asterix contro Cleopatra quando il romano alla fine arriva subito e quindi e quindi che facciamo e Cesare si smamma subito la miseria i leoni mi gusto mi gusto mi gusto questo film non mi ricordo qual era so di aver visto anche Asterix e i ritanni che bevono l'acqua bollente invece del tè esatto e le 12 fatiche di Asterix che credo rimanga uno dei miei preferiti insieme a Asterix hai mica visto passare il cuoco per caso gli ho lasciato a metà subito dopo gli antipasti a me a me come dire cioè fa morire la parte di Asterix che deve correre contro non mi ricordo se è il greco credo che fosse un greco sì che questo prima comincia a correre con gli piedi poi corre con le mani poi diventa un razzo cioè ragazzi erano fantastici sì allora io invece adesso vorrei tantissimo trovare materia da quei soffatti ah sì 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 si muoveva nella stanza ecco come va adesso ci sono prima di andarsene Willett si soffermò con attenzione sul ritratto meravigliandosi dalla somiglianza con Charles e imprimendosi nella memoria ogni più piccolo particolare del volto enigmatico senza colore caratterizzato da una piccola cicatrice o fossetta sulla fronte liscia poco sopra l'occhio destro Cosmo Alexander riflette il dottore era un pittore degno di quella Scozia che già aveva dato al mondo un Reborn e un maestro all'altezza del suo illustre pupillo Gilbert Stuart rassicurati dal dottor Willett sul fatto che la salute mentale di Charles non era in pericolo e che anzi era occupato in ricerche i cui risultati avrebbero potuto essere della massima importanza nel giugno successivo quando il giovane stabilì definitivamente che non avrebbe frequentato l'università i world si mostrarono più arrendevoli di quanto sarebbero stati normalmente Charles affermò di dover completare studi di importanza vitale e avanzò la richiesta di recarsi all'estero l'anno dopo per consultare fonti che in America non esistevano il signor Ward pur rifiutandogli il permesso sulla base del fatto che si trattava di una cosa assurda per un ragazzo di appena 18 anni si arrese per quanto riguardava l'università in questo modo dopo essersi diplomato non troppo brillantemente la Muses Brown School Charles si tuffò per tre anni in un periodo di profondi studi dell'occulto e ricerche nei camposanti la gente imparò a conoscerlo come un eccentrico e Charles si sottrasse più decisamente di quanto non avesse mai fatto alla vista degli amici di famiglia non si occupava d'altro che del suo lavoro e di tanto in tanto faceva un viaggio in altre città per consultare oscuri documenti una volta andò nel sud per parlare con uno strano vecchio mulatto che viveva vicino a una palude e sul quale un quotidiano aveva pubblicato un articolo bizzarro in un'altra occasione Charles visitò un villaggio degli Adirondack da qui erano giunte notizie di misteriose pratiche rituali ma ancora scusate ma ancora i genitori gli vietavano il viaggio nel vecchio mondo che Charles tanto desiderava scusate controllo un attimo il computer che non stai già ok divenuto maggiorenne nell'aprile nell'aprile 1923 e avendo ricevuto già da qualche tempo una piccola eredità dal nonno materno Ward decise finalmente di compiere il viaggio in Europa che fino ad allora gli era stato negato nulla rivelò sull'itinerario che aveva deciso di seguire ma si limitò ad ammettere che per necessità di studio avrebbe dovuto recarsi in numerosi luoghi in numerosi luoghi e promise che avrebbe scritto tutti i particolari e i genitori quando videro che era impossibile dissuaderlo il signor Ward e sua moglie abbandonarono ogni tentativo d'opposizione e lo aiutarono come meglio potevano se che a giugno il giovane si imbarcò per Liverpool il padre e la madre gli fecero tutti i loro auguri e lo accompagnarono a Boston dove videro la nave allontanarsi dal molo della stella bianca Charlestown non passò molto tempo che gli giunsero le notizie dell'arrivo di Charleston in Inghilterra e dell'appartamento che aveva preso in affitto in Great Russell Street a Londra lì decise di restare evitando accuratamente gli amici di famiglia fino a quando non avesse esaminato tutte le fonti del British Museum in un certo settore della sua vita quotidiana Ward parlava poco anche perché c'era poco da dire lo studio e gli esperimenti assorbivano tutto il suo tempo e una volta accennò il laboratorio che aveva attraziato in una stanza dell'appartamento il fatto che non menzionasse eventuali passeggiate antiquarie nella vecchia città irta di cupole e guglie affollata di strade e stradine il cui fantastico intreccio e i cui improvvisi scorci di panorama invitavano e sorprendevano il visitatore comunque prima c'era Molo White Star la White Star era la compagnia marittima proprietaria del Titanic tra le varie cose dove vuoi arrivare Sara allora guarda io ho una cosa era il crepuscolo e Charles era tornato a casa ok allora poi andiamo avanti definisci il quattro poi c'è il quinto e il sesto esatto io direi di arrivare io direi di arrivare all'inizio della parte quarta per stasera ok ok perfetto se vuoi facciamo una cosa per la quale io finisco il quarto tu leggi il cinque poi io leggo il sei se ti va bene tu finisci il quattro io leggo il cinque ok sì perfetto veramente cinque e sei sono corti ragazzi dai va benissimo avete pazienza di arrivare almeno fino alla fine di questo capitolo chiamiamolo chiamiamolo così io un po' vado avanti scusate fu preso dai genitori come un buon segno dei nuovi interessi che avevano assorbito la mente del giovane nel giugno 1924 una breve nota rivelò che Charles si era diretto a Parigi dove aveva già fatto un paio di brevi viaggi per consultare certe oh no eh so che stasera eh allora allora aspetta un po' che vado vado io allora magari allora tolgo un attimo ok eravamo arrivati i genitori ritenero che fosse un particolare indicativo giusto sì nel giugno del 24 ok nel giugno del 1924 un conciso biglietto comunicò la sua partenza per Parigi dove si era già recato in due fuggevoli occasioni per consultare del materiale nella Biblioteque Nationale sentite che è francese però io che non lo parlo da vent'anni nei tre mesi successivi inviò solo cartoline postali in cui forniva un indirizzo in Rue Saint-Jacques e accennava ad una ricerca particolare tra i manoscritti rari della biblioteca di un collezionista privato di cui non diceva il nome evitò i conoscenti e nessun turista ritornò con sue notizie seguì poi un lungo silenzio e in ottobre i Ward ricevettero una cartolina illustrata da Praga in cui Charles affermava di trovarsi in quell'antica città lo scopo di conferire con un uomo molto anziano che si supponeva fosse l'ultimo possessore vivente di alcune nozioni medievali dalla strana natura diede un indirizzo della parte nuova della parte nuova della città e non annunciò nessun trasferimento fino al gennaio seguente quando spedì numerose cartoline da Vienna in cui diceva di essere di passaggio da lì diretto verso una regione più orientale dove era stato invitato da uno dei suoi corrispondenti e colleghi nello studio di materie occulte la cartolina seguente proveniva da Clausenburg in Transilvania in Transilvania ecco Sara eccola eccomi perdono non ho capito cosa fosse successo cioè boh scherzi sono arrivato a Transilvania perfetto ho visto Transilvania lui taglia mani e piedi strappocchi di orbite e impala nemici su pali però erano meritato Ward era ormai vicino alla sua destinazione suo ospite era un certo barone Ferenzi le cui terre si trovavano fra i monti a est di Racus l'indirizzo a cui si poteva raggiungerlo era appunto Racus presso il nobiluomo una settimana dopo la famiglia ricevette un'altra cartolina in cui Charles raccontava come se come la carrozza dell'ospite fosse venuta a prenderlo e ora si accingesse a lasciare il villaggio per le montagne fu questo il suo ultimo messaggio per parecchio tempo e anzi Charles non rispose alle numerose lettere dei genitori fino a maggio quando scrisse alla madre per scoraggiare il progetto di un appuntamento a Londra Parigi o Roma durante l'estate che i genitori avevano deciso di trascorrere in Europa Charles disse che le sue ricerche non gli permettevano di abbandonare il luogo dove si trovava e che la posizione del castello Ferenzi non incoraggiava i visitatori la fortezza sulgeva su un picco scosceso fra le montagne coperte di boschi e la regione scrupolosamente evitata dagli abitanti delle campagne avrebbe messo a disagio una coppia di turisti per di più il barone non avrebbe fatto bella impressione una degna famiglia della buona borghesia conservatrice del New England i suoi modi e il suo aspetto erano peculiari la sua età così avanzata da essere inquietante sarebbe stato meglio osservo Charles che i genitori lo aspettassero a Providence ormai la data del ritorno non era lontana in realtà essa fu differita fino al maggio 1926 quando dopo aver annunciato il suo rientro con qualche cartolina il giovane giramondo approdò discretamente a New York a bordo del lago Merrick e coprì il lungo tragetto per Providence in Pullman gustò avidamente il paesaggio di verdi colline i fruttetti profumati e in fiore le città del vecchio Connecticut con i campanili bianchi il suo primo assaggio dell'antico New England dopo circa quattro anni quando l'autobus attraversò il Poe Ketak ed entrò nel Rhode Island nel loro fatato di un pomeriggio di primavera inoltrata il cuore di Ward preso a battere più forte l'ingresso a Providence lungo la Reservoir la Helmut Avenue fu una cosa meravigliosa da lasciarlo senza fiato nonostante gli anni trascorsi a contatto sempre più intimo con argomenti più proibiti nell'alta piazza dove confluiscono Broad Way Bosset ed Empire Street Charles vitte davanti a sé in basso nel fuoco del tramonto le piacevoli case dei suoi ricordi le cupole i campanilli dell'antica città ed è strano ma quando il veicolo si avvicinò al terminal alle spalle dell'hotel Biltmore la testa gli girò alla vista della cima tondeggiante e del dolce scenario verde punteggiato di tetti della vecchia collina oltre il fiume mentre l'alta guglia coloniale della First Baptist Church si colorava di rosa nella magica luce della sera ritagliata contro il verde fresco e primaverile del ripido pendio vecchia Providence era la città con le forze misteriose della sua storia lunga ma continua ad averlo generato ad averlo attratto verso meraviglie e segreti di cui nessun profeta poteva stabilire i limiti e nella città se ne davano gli arcani meravigliosi o terribili secondo i casi a cui lo avevano preparato gli anni di viaggi e studi un taxi lo portò velocemente in post office square con la vista del fiume davanti all'antica market house all'estremità della baia e su per l'erta salita di Waterman Street ricca di curve fino a Prospect Street dove la grande cupola splendente e le colonne ioniche illuminate dal tramonto della Christian Science Church ammiccavano a nord poi l'ultima parte del tragitto tra le belle dimore antiche che aveva imparato ad amare da bambino e i marciapiedi di mattoni che tante volte aveva calpestato dal ragazzo alla fine alla sua destra la piccola fattoria bianca inghiottita dalla città e a sinistra il classico porticato Adam e la facciata maestosa della grande costruzione di mattoni in cui era nato era il crepuscolo e Charles Dexter Ward era tornato a casa ha fatto una bella gita ha fatto una bella gita ha fatto una bella gitarella ti sei divertito allora aspettate un attimo prego allora finiamo appunto gli ultimi due capitoletti e poi abbiamo chiuso per oggi spero tutto bene in chat comunque una scuola di alienisti meno accademica di quella del dottor Lyman fa risalire al viaggio in Europa di Ward l'inizio vero della sua pazzia ammettendo che fosse sano di mente quando partì essi ritengono che la condotta successiva al suo ritorno implichi un disastroso cambiamento ma il dottor Willett rifiuta di accettare anche questo punto di vista egli insiste nel dire che in seguito accadde qualcosa e che la bizzeria del giovane in questa fase vada attribuita alla pratica di rituali appresi all'estero erano in vero riti curiosi ma non sottintendevano in alcun modo un'aberrazione mentale da parte del celebrante Ward sebbene visibilmente maturato e indurito era ancora normale nelle sue reazioni generali e in numerose conversazioni con Willett dimostrò un equilibrio che nessun polle nemmeno al primo stadio avrebbe potuto fingere così a lungo si pensò che la follia fosse cominciata in quel periodo a causa di suoni che si sentivano provenire a tutte le ore dal laboratorio di Ward nel quale gli passava la maggior parte del tempo si sentivano canti recite a memoria e declamazioni tonanti dalle cadenze ignote sebbene questi suoni fossero sempre nella voce di Ward c'era qualcosa nella tonalità di quella voce negli accenti delle formule che pronunciava che gelava il sangue a ogni ascoltatore si osservò che Nig il venerabile adorato gatto nero di casa si eccitava e inarcava il dorso quando udiva alcuni di quei suoni i gatti lo sanno si eccitava rizzava il pelo nella mia traduzione perché effettivamente tra l'altro allora qui è il diminutivo ma i gatti si chiamano tutti uguali è incredibile perché qui è solo i n i g qui è solo Nig però se uno allunga la parola è sempre lo stesso nome che fantasia avevo fantasia per tutto tranne che per i nomi dei gatti si chiamano tutti uguali e questo come si chiama? Nerino questo come si chiama? Nerino e quest'altro? Nerino e chi ha guardo un po' di originalità però per i nomi dei gatti santo cielo gli odori che uscivano ogni tanto si diciamo Nerino per non dire si è come abbiamo deciso di cambiarlo noi anche quando abbiamo letto l'altro racconto perché se no appunto qui sono solo tre lettere va ancora bene ma se stendiamo la parola no meglio di no ecco tornassi tornassi indietro non so perché pensando appunto a un gatto tutto nero di mantello lo chiamerei piccolo void non so perché comunque dal laboratorio di Charles Ward venivano musica rumori molesti e anche odori molesti ci voleva lui chi va per quattro anni in Europa e al mattino mangia pasta con le sarde vuol dire che l'indomani non avrà un cazzo da fare giusto o forse non doveva fare un cazzo ecco gli odori che uscivano ogni tanto dal laboratorio erano altrettanto strani eccoli qua odori molesti eccoli qui odori molesti anche odori molesti a volte erano nauseanti ma più spesso erano olezzanti con una sfumatura ossessiva sfuggente che sembrava avere il potere di indurre immagini fantastiche ah guarda è un gatto bianco di angora si chiama nerino uguale è un gatto tigrato arancione si chiama nerino ah guarda tu non stai bene sì e te ne accorgi solo adesso ah guarda tu non stai bene lo so quindi spezie misture erbe di radice tipo messico per citare Richard Benson erbe io mi immagino tipo avete presente tipo i proprio spezie indiane o arabe della peggior specie sai quei fumi che entri e ti manca il respiro perché l'ossigeno è annullato io me l'immagino più o meno così quello che sta combinando Charles Ward ecco le persone che li annusavano acquisivano la tendenza a scorgere miraggi fuggevoli di paesaggi vastissimi con strane montagne o strade senza fine lungo le quali si allineavano spingi ipogrifi fino all'infinito roba buona eh questa roba buona ho trovato roba buona Charles Ward questa roba buona ma anche noi nella campagna dovremmo fare riti strani con erbe lsd o roba del genere no allora volendo ci potrebbero essere cose da fare poi dipende da voi io vi ricordo che è sempre meglio andare con i piedi di piombo proviamo proviamo quello di shud facciamo come quello di it quello di it è il rito indiano ecco forse forse no forse è meglio di no comunque sia chiaro mi dissocio dai nomi che Lovecraft dava ai suoi gatti poteva chiamarli un po' meglio ci dissociamo ma perché ma perché ma perché ah guarda avevi così tanta fantasia perché cadevi in queste cose vabbè che ci avevi traumi all'infinito e tua madre ti ha instillato l'idea che chiunque non fosse lei ti faceva del male però così è troppo sempre c'è povero Howard povero Howard Ward non riprese le vecchie passeggiate di un tempo ma si dedicò con zelo agli strani libri che aveva portato a casa e agli altrettanto strani esperimenti nelle sue stanze spiegava che le fonti europee avevano ampliato enormemente le possibilità del suo lavoro e prometteva grandi rivelazioni negli anni a venire il suo viso invecchiato aumentò la sua somiglianza con il ritratto di Kerwin fino a un livello sorprendente il dottor Willett si fermava spesso accanto al dipinto alla fine delle sue visite meravigliandosi di quella virtuale identità pensando che solo la piccola cicatrice al di sopra dell'occhio destro nel ritratto restava ormai differenziare lo stregone morto morto da più di un secolo dal ragazzo vivo le visite di Willett fatte su richiesta dei due anziani Ward erano molto strane Ward non respingeva mai il dottore ma quest'ultimo si rendeva conto di non riuscire mai ad arrivare ai pensieri più intimi nel giovane spesso notava oggetti particolari nella stanza statuine di cera dalle forme grottesche sulle mensole o sui tavoli i resti semicancellati di cerchi e triangoli a stelle e cinque punti tracciati col gesso o con il carboncino stavo per leggere carbonchi o no? aiuto tracciati con il carbon forse forse non era il caso carboncino nello spazio sgombro che si trovava al centro della grande camera e la notte rimbombavano sempre quei canti ritmati e quegli incantesimi fino al punto che diventò difficile far restare i domestici e impedire le chiacchiere che si facevano a mezza voce sulla pazzia di Charles nel gennaio del 27 accade un incidente particolare una sera intorno a mezzanotte mentre Charles cantava una formula rituale la cui magica cadenza e cheggiava sgradevolmente ai piani inferiori della casa dalla baia arrivò una folata improvvisa di vento geldo e la terra fu scossa da un tremito che tutti gli abitanti del vicinato avvertirono contemporaneamente il gatto mostrò segni di una paura intensa mentre i cani abbaiavano nel raggio di chilometri tutto ciò fu il preludio di un temporale violento anomalo per quella stagione durante il quale i signori Ward sentirono uno schianto così forte che pensarono che la casa fosse stata colpita da un fulmine si precipitarono al piano di sopra per vedere quale fosse il danno ma Charles andò loro incontro sulla soglia della soffitta pallido risoluto ed esaltato sul volta aveva una spaventosa espressione mista di trionfo e di gravità rassicurò i genitori dicendo che la casa non era stata veramente colpita e che il temporale sarebbe finito presto il padre e la madre si fermarono e guardarono attraverso una finestra il figlio aveva ragione infatti i fulmini lampeggiavano sempre più lontani mentre gli alberi avevano cessato di piegarsi alle strane folate di vento gelido che veniva dal mare i tuoni si attenuarono in brontolì sordi e soffocati e infine scomparvero apparvero le stelle e i segni di trionfo sul volto di Charles Ward si cristallizzarono in un'espressione singolarissima nei due mesi successivi a quell'avvenimento Ward passò meno tempo del solito chiuso nel suo laboratorio mostrò uno strano interesse nei confronti della meteorologia e fece strane domande a proposito dell'inizio del disgelo primaverile del terreno una sera della fine di marzo uscì di casa dopo mezzanotte e non ritornò fino all'alba e non ritornò fino all'alba quando sua madre ancora sveglia sentì il rombo di un motore avvicinarsi al vialetto d'ingresso si sentivano distintamente in precazioni soffocate e la signora Ward si alzò si avvicinò alla finestra e vide quattro persone scure che scaricavano una cassa lunga e pesante da un camion sotto gli ordini di Charles e la trasportavano all'interno della cassa della casa attraverso l'ingresso secondario la donna sentì respiri affannosi e pesanti lungo le scale e infine un tonfo sordo nella soffitta dopodiché sentì di nuovo i passi che scendevano le scale e i quattro uomini uscirono all'esterno allontanandosi con il camion il giorno seguente Charles ritornò al suo stretto isolamento nella soffitta tirò le tende scure che erano alle finestre del laboratorio e cominciò a lavorare su qualche sostanza metallica non apriva la porta a nessuno e rifiutava con ostinazione tutto il cibo che gli veniva offerto verso mezzogiorno si sentì un suono lacerante seguito da un grido terribile da un tonfo ma quando la signora Ward bussò alla porta suo figlio rispose dopo qualche tempo con una voce flebile e le disse che andava tutto bene il tan forrendo indescrivibile che usciva dal laboratorio era assolutamente innocuo e sfortunatamente inevitabile la solitudine era essenziale ed egli si sarebbe fatto vedere solo all'ora di cena quel pomeriggio quando cessarono alcuni strani civili che provenivano da dietro la porta chiusa il giovane finalmente riapparve aveva un aspetto esausto e ordinò di non entrare nel laboratorio per nessun motivo questo in effetti fu l'inizio di una nuova tattica di segretezza infatti da allora in poi non fu permesso più a nessuno di entrare sia nella misteriosa stanza da lavoro nella soffitta sia nel magazzino adiacente che il ragazzo aveva sgomberato ammobiliato alla meglio e aggiunto al suo invionabile dominio privato come camera da letto in quella stanza visse con i libri portati dalla sua biblioteca del piano inferiore finché non acquistò il capanno a Potaxet e vi si trasferì con tutte le sue attrezzature scientifiche quella sera Charles si impossessò del giornale prima dei familiari e ne danneggiò una parte apparentemente per caso in seguito il dottor Willett determinata la data da dove veniva quell'irrefrenabile odore di decomposizione forse dalle sue mutande forse il giovane Ward aveva nascosto un cadavere da qualche parte sì spoiler si è andato a rubacchiare i morti ecco in seguito il dottor Willett determinata la data sulla base delle affermazioni dei vari membri della casa cercò una copia intatta nell'archivio del journal e trovò nella parte distrutta da Charles il seguente articoletto scavatori notturni sorpresi nel cimitero settentrionale soliti ignoti col sistema del buco rubano pasta ai ceci no è un'altra cosa non hanno rubato pasta ai ceci stavolta no Robert Hart guardiano notturno nel cimitero settentrionale questa mattina ha scoperto un gruppetto di uomini con un camion nella parte più antica del cimitero ma li ha spaventati prima che riuscissero a portare a termine il loro compito qualunque esso fosse la scoperta è avvenuta intorno alle 4 quando l'attenzione di Hart è stata attirata dal rumore di un motore all'esterno del suo capanno quando è uscito per indagare ha visto un grande camion sul viale principale a parecchi metri di distanza ma il rumore dei suoi passi ha rivelato la sua presenza prima che riuscisse ad avvicinarsi gli uomini hanno sistemato in fretta una grande cassa sul camion e si sono allontanati verso la strada prima che il guardiano li raggiungesse e dal momento che nessuna tomba è stata toccata Hart crede che la loro intenzione fosse di seppellire la cassa gli scavatori devono aver lavorato a lungo prima di essere scoperti perché Hart ha trovato una grande fossa scavata a una notevole distanza dalla strada nella zona di Ammosafield dove la maggior parte delle vecchie lapidi sono da lungo tempo scomparse il buco largo e profondo quanto una tomba era vuoto e non corrisponde a nessuna tomba elencata dei registri del cimitero e hanno trovato il cadavere di Joseph Kerwin e se lo sono portati a casa il sergente Riley del secondo distretto si è recato sul posto ed ha ipotizzato che il fosso sia stato scavato da contrabbandieri che astutamente cercavano un nascondiglio sicuro anche se alquanto macabro per i loro liquori ah sì siamo in pieno proibizionismo ovviamente siamo negli anni 20 in un luogo dove era difficile che fossero trovati interrogato Hart ha detto che gli è parso che il camion fosse ridiretto verso Rockamble Avenue sebbene affermi di non poterne essere del tutto certo nei giorni seguenti Charles fu visto di rado dalla famiglia da quando aveva aggiunto anche una stanza da letto il suo reame conduceva una vita completamente appartata ordinava che il cibo gli fosse portato dietro la porta e lo prendeva solo quando i servi si erano allontanati il ronzio delle monotone formule e i canti dai ritmi bizzarri si ripetevano ogni tanto mentre invece a volte si sentivano tintinnì di vetro sibili di sostanze chimiche acqua che scorreva e il crepitio del gas acceso odori di natura indefinibile quindi appunto rumori molesti odori molesti di tutto e di più completamente diversi da quelli notati fino a quel momento alleggiava una volta intorno alla porta e l'area di tensione che si poteva osservare nel giovane recluso ogni qual volta si avventurava fuori per qualche minuto era tale da provocare le supposizioni più assurde una volta fece una veloce spedizione nell'Ateneum per un libro di cui aveva bisogno e un'altra soldò un fattorino che gli andasse a prendere un misteriosissimo volume a Boston tutta quella situazione provocava un'ansia e un'attesa spaventose e sia la famiglia sia il dottor Willett ammettevano di non sapere cosa fare o cosa pensare avviene la cosa il 15 aprile si ebbero nuovi e bizzarri sviluppi niente era cambiato nella sostanza ma l'intensità del mutamento fu radicale e il dottor Willett vi attribuisce grande importanza era venerdì santo circostanza che i servitori mettono in grande risalto ma che altri si limitano a giudicare una coincidenza irrelevante nel cardo pomeriggio il giovane Ward cominciò a ripetere ad alta voce una certa formula bruciando contemporaneamente una sostanza così acre che i fumi si diffusero in tutta la casa la litania era perfettamente udibile nel corridoio oltre la porta chiusa e la signora Ward non poté fare a meno di mandarla a memoria mentre aspettava e ascoltava in preda all'ansia in seguito su richiesta del dottor Willett fu in grado di trascriverla la riportiamo qui di seguito avvertendo che alcuni esperti hanno rivelato al dottor Willett che qualcosa di molto simile appare negli scritti esoterici di Eliphas Levi lo studioso del mistero che è riuscito a penetrare in un'apertura della porta proibita e a contemplare le visioni spaventose del vuoto cosmico per Adonai Elohim Adonai Jehovah Adonai Sabaoth metratron on aglamathom verbum pithonicum verbum pithonicum misterium salamandre conventus silvorum antrenomorum demonia cieli dio al-monsin gibor jeosua evam zarietnamic vene 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 sembra la messa quella di amicimietto terzo papà è satan papà è satan esatto qui evochiamo cose dallo spazio profondo che bello è sì ma tantissimi nomi a me ricordano cioè mi vien da pensare alla religione ebraica ma infatti molti sono ebraici esatto Adonai che è il signore Jehovah sì sì la prima parte è tutta ebraica ma anche Jeshua il nome di Gesù poi c'è qualcosa di verbo del serpente i misteri delle salamandre qualcosa di un po' meno ebraico forse c'è qualcosa di romano di antico quindi l'insieme dei boschi gli altri del sapere ho letto giusto con Omorum allora perfetto perfetto ogni tanto qualcosa ce lo becco anche io la cantilena prosegue per circa due ore senza cambiamenti o intervalli dopodiché nel vicinato i cani scatenarono un pandemonio l'inferno prodotto dalla bagliare delle bestie fu tale che il giorno seguente del giornale gli dedicò un articolo ma per chi si trovava in casa Ward il fenomeno fu il clissato dall'odore che immediatamente lo seguì era spaventoso penetrava dappertutto e nessuno lo aveva mai sentito prima nel diluvio mefitico saettò una luce improvvisa simile a lampo che sarebbe risultata accecante e ancora più misteriosa se non si fosse verificata di giorno poi si udì la voce che nessun testimone potrà mai dimenticare una voce tonante e remota profondissima spaventosamente diversa da quella di Charles Ward faceva tremare la casa e fu udita con chiarezza da almeno due vicini nonostante l'abbaiare dei cani la signora Ward che era rimasta ad ascoltare angosciata fuori dalla porta sbarrata del laboratorio tremò nel percepire quel tono infernale Charles tra l'altro le aveva parlato della sinistra fama che si attribuiva alla voce nei grimori e della prima volta in cui stando alle lettere dei Fenner era risuonata sulla fattoria condannata di Boataxet la notte in cui Joseph Kerwin era stato distrutto non era possibile fraintendere quella frase di Incubo perché ai tempi in cui parlava senza reticenza del mistero Kerwin beh nei grimori hai detto nei grimori nei grimori ah i i libri i libri strani tutti aiuto perché ai tempi in cui parlava senza reticenza del mistero Kerwin Charles l'aveva descritto fin nei minimi particolari si trattava di un frammento di un linguaggio arcaico e dimenticato né più né meno che questo subito dopo la luce del giorno si oscurò per un attimo anche se il tramonto mancava un'ora buona e nell'aria si è diffuso un odore diverso dal primo ma comunque sconosciuto e intollerabile Charles aveva ricominciato a cantare e sua madre riuscì a distinguere alcune sillabe che erano qualcosa di simile a Yenash Yog Sotot El Geb Fith Rodok e alla fine uno vi giuro c'è scritto la cui forza maniacale saliva in un crescendo che sembrava voler rompere i timpani un attimo dopo tutti i ricordi furono cancellati da un urlo o lamento che esplose con violenza disperata e gradualmente si trasformò in una risata demoniaca isterica la signora Ward in preda al terrore ma anche un cieco coraggio di madre avanzò e bussò spaventatissimo alla porta del laboratorio senza ottenere risposta bussò ancora ma si interruppe snervata quando risuonò un secondo urlo senz'altro lanciato da suo figlio e che che ciò contemporaneamente alla risata demenziale la quale apparteneva a un altro essere alla fine non evocate roba non evocate roba non fatelo non evocate roba soprattutto non evocate roba che non vuole essere controllata perché è un cazzo di dio esterno non ha la sua intenzione di essere controllato da un ometto qualunque di un pianeta infimo in un angolino ah io ti comando cos'è che fai tu cos'è che esatto cos'è che fai tu scusami i comandi cos'è che fai tu due volte proprio esatto vi ricordate Sandman ecco e Sandman è decis e Sandman è decisamente più buono guardala Giacomo guardala la serie è bellissima comunque se non vuoi liberare tutti i fumetti ci sta ne parleremo poi e aspetto la fine di questo racconto per parlare un attimo di Yossothoth che tornerà più avanti anche nel ciclo però per approfondire un po' la figura di Yossothoth ti aspettiamo di vedere la fine di quello che combina alla fine di questo racconto ancora secondo me due puntate almeno tutte due o tre puntate quindi abbiate pazienza ma questo lo dice chi lo evoca io non ti volevo neanche evocare vanno tirato su vanno tirato alla fine alla fine la signora svenne benché sia tuttora incapace di ricordare le cause precise e immediate del malore a volte la memoria cancella misericordiosamente i particolari più terribili il signor Ward tornò dal quartiere degli affari alle sei un quarto circa non trovando sua moglie al pian terreno fu informato dai servitori atterriti che probabilmente montava la guardia alla porta di Charles da cui si erano sentiti grida e rumori più strani che mai immediatamente il signor Ward raggiunse l'attico e rendendosi conto che la moglie era svenuta le prese un bicchier d'acqua da una brocca in una alcova il liquido freddo le corse sulla faccia e il marito si rincuorò nel vedere che la signora si riprendeva poi mentre gli occhi si aprivano un brivido attraversò da capo a piedi il signor Ward tanto che per poco non perse coscienza come era accaduto a lei il laboratorio silenzioso infatti non lo era completamente ma lasciava filtrare i murmuri di una conversazione tesa soffocata troppo bassa perché si potessero distinguere le parole ma sconvolgente per l'anima praticamente la signora Ward ha completamente fallito proprio fallito criticamente il tiroso sanità mentale invece il signor Ward l'ha passato di rise gomma ma eh sì 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 ovviamente non era una novità che Charles vorrottasse formule magiche ma stavolta era diverso non c'era dubbio che si trattasse di un dialogo imitazione di un dialogo con il normale cambiamento di tono che suggeriva domanda e risposta affermazione e negazione una voce era evidentemente quella di Charles ma l'altra si esprimeva con una profondità e un tono rauco che le facoltà mimiche del giovane frequentemente messe alla prova nei suoi cerimoniali non avevano mai raggiunto nella faccenda c'era qualcosa di orribile blasfemo e anormale e se non fosse stato per un grido della moglie che si stava riprendendo e che snebbiò la sua mente risvegliandone all'istinto protettivo è probabile che Theodore Howland Ward sarebbe riuscito a mantenere per quasi un altro anno la sua famosa manteria di non essere mai svenuto prese la moglie fra le braccia la portò velocemente al piano di sotto prima che anche lei potesse udire le voci che l'avevano sconvolta anche così tuttavia non riuscì a evitare di sentire qualcosa che lo fece vacillare pericolosamente il grido della signora Ward doveva essere stato udito anche da qualcun altro e da dietro la porta del laboratorio erano giunte le prime parole comprensibili di quel colloquio terribile ed enigmatico era soltanto un avvertimento e la voce che l'aveva proferito era quella di Charles ma il senso e soprattutto il contesto di addere un brivido al padre che le intraudì la frase era semplicemente questa scrivi dopo cena dopo cena il signore e la signora Ward parlarono per qualche tempo il padre decise di affrontare Charles quella sera stessa e avere un serio colloquio con lui non importava quanto fosse grande l'obiettivo delle sue ricerche una condotta del genere non poteva continuare e gli ultimi avvenimenti trascendevano ogni limite di normalità costituendo una minaccia per l'ordine e il benessere di tutta la casa evidentemente il ragazzo aveva perso la testa perché solo la follia poteva giustificare le urle improvvise e le conversazioni immaginarie intorno a contrapatto che si erano uviti in quel giorno tutto questo doveva finire o la signora Ward si sarebbe sentita male e mantenere i servitori si sarebbe rivelato impossibile alla fine del pranzo il signor Ward si alzò e salì e salì verso il laboratorio di Charles al primo piano tuttavia si fermò per ascoltare certi suoni che venivano dalla biblioteca ora in disuso del figlio i libri erano sforbagliati dappertutto e così pure una serie di documenti oltrepassando la soglia il signor Ward vide che il giovane era nella stanza intanto a raccogliere con grande eccitazione una massa di libri di ogni forma e dimensione l'aspetto di Charles era stanco tirato e a sentire la voce del padre il ragazzo trasalì e fece cadere i volumi a un ordine dell'altro sedetti in poltrona e ascoltò per qualche tempo i rimproveri che aveva così da lungo meritato non ci furono scenate alla fine della reprimenda Charles ammise che suo padre aveva ragione che i suoi rumori vorbottii incantesi per non parlare dell'odore dei prodotti chimici erano fastidi che non potevano essere torillerati quindi acconsentiva una politica di maggior quiete pur insistendo sulla necessità di prolungare la sua totale reclusione gran parte del lavoro che avrebbe dovuto svolgere in futuro disse non avrebbe richiesto che lo studio dei libri ma avrebbe affittato un alloggio indipendente per recitare i rituali che erano indispensabili a ulteriori progressi Charles si mostrò profondamente dispiaciuto per lo spavento e lo svenimento di sua madre e spiegò che la conversazione udita dal padre faceva parte di un elaborato esercizio simbolico il cui scopo era indurre una certa atmosfera mentale l'uso di termini tecnici astusi meravigliò il signor Ward ma quando padre e figlio si lasciarono il primo ebbe l'impressione che Charles pur sottopusto una tensione di origine misteriosa e senz'altro grave fosse tuttavia nel pieno possesso delle sue facoltà mentali il colloquio non approdò ad altro e quando Charles raccolse i suoi libri e uscì dalla stanza il signor Ward non era riuscito a farsi un'idea più chiara dell'indicata vicenda tutto rimaneva misterioso come la morte del povero vecchio Nick il cui corpo irrigidito era stato trovato un'ora prima in cantina con gli occhi sbarrati e la bocca distorta dalla paura povero micio spinto da un mago istinto ad approfondire la faccenda il padre perplesso guardò con curiosità gli scaffali vuotati per vedere che cose il figlio avesse portato nell'attico la biblioteca di Charles Ward era organizzata in modo semplice ma schematico in modo che si poteva dire come macchiata che libro o gruppo di libri fossero stati presi in quell'occasione il signor Ward fu sorpreso nel notare che non mancava nessun testo storico o dell'occulto a parte quelli che erano già stati prelevati no i libri portati via all'ultimo momento riguardavano argomenti contemporanei storia moderna scienze geografia manuali di letteratura opere opere filosofiche e un certo numero di quotidiani e riviste era un curioso cambiamento rispetto alle abitudini di Charles Ward e il padre assalito dai dubbi si immerse sempre più profondamente in un mare di ipotesi fuori dell'ordinario lo straordinario era l'elemento che dominava su tutto con forza e quando si chiede che cosa stesse accadendo il signor Ward trovò una morsa al petto c'era qualcosa di profondamente sbagliato in tutta la vicenda e non solo spiritualmente ma tangibilmente fin da quando era entrato in biblioteca il padre si rese conto che mancava qualcosa e alla fine capì di che si trattava sulla parete nord c'era ancora il fregio antico che proveniva dalla casa in Olney Court ma il grande ritratto di Kerwin restaurato con tanta fatica e screpolato in più punti sembrava irreparabilmente danneggiato il tempo e gli sbalzi di temperatura avevano fatto finalmente il loro lavoro in un momento imprecisato da quando la stanza era stata rigovernata per l'ultima volta era caduto il peggio staccatosi dal legno in riccioli sempre più spessi che a loro volta si erano ridotti in briciole con incredibile rapidità il ritratto di Joseph Kerwin aveva rinunciato per sempre a sorvegliare il giovane cui somigliava così stranamente tutto quel che ne rimaneva era visibile sul pavimento un mucchietto di polvere azzurro in pratica è il contrario del finale del ritratto di Dorian Gray esattamente anche perché avrete ormai intuito che è successo il povero Charles come mai c'è questo cambio prima cercava le cose antiche adesso cercava le cose moderne di colpo è perché diciamo che nel quadro era contenuto qualcosa che non doveva esserci e tramite un richiamo a Yogg-Soth il povero Charles è stato tolto di mezzo e Joseph Kerwin ha preso il suo posto quindi adesso vediamo cosa succede nelle prossime parti il signor Kerwin che ha la bellissima io non l'avevo capito in questo momento e si è sostituito si è il caro Joseph Kerwin durante l'ultima battaglia ha messo se stesso nel quadro e adesso che bello sto corpo moderno aspetta che muoviglio io salve sono tornato adesso vediamo cosa vuole fare al signor Yogg-Sothoth perché lui è ancora convinto il signor Kerwin che possa avere controllo sul Dio esterno piccino lui mamma mia mamma mia vi giuro di tutti i personaggi di Lovecraft non è Herbert West e neanche quello dei cari estinti ma ma rientra nella top 3 secondo me non Charles Ward poverino Kerwin si un po' si e si si è sostituito lui scambio di posto era nel quadro diciamo che il signor Charles non c'è più il vero Charles o meglio c'è fisicamente c'è esatto eh si vado a controllare Yogg-Sothoth si si ti piacerebbe no questo punto tifo per Yogg-Sothoth ve lo dico cioè proprio ma in realtà vedremo tra i ditai esterni Yogg-Sothoth poverino è ancora più tranquillo ma che viene chiamato dalla gente che vuole fare cazzate e lui dice ma perché mi rompete il cazzo il cazzo siete sicuri vogliamo il tuo aiuto vabbè se lo volete però non garantisco ragazzi povero Yogg bene 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 eh sì quindi per forza il quadro era così ben conservato con un'anima umana dentro per forza si conserva bene eh ragazzi arriveremo anche all'orrore di Danui certo quando si forma il mitico trio della Arkham che compare solo lì nei racconti però diventa leggendario nel gioco di ruolo io sono solo contenta perché solo nel ieri sera quando abbiamo un livellato ho detto eh questa cosa la conosco eh sto capendo il legito eh sì abbiamo ancora un bel po' di Longcraft ragazzi non temete abbiamo ancora un bel po' eh sì oh sì sì non bisogna mai toccare i grimori non bisogna mai toccare le robe antiche perché queste qua che ne dite vi sta piacendo avete domande se no ancora un attimo e poi ci avviamo verso la la conclusione della della diretta io l'ho detto non bisogna mai fare rituali non bisogna mai fare rituali non bisogna mai chiamare Jay non fate siamo così bene nella nostra è stato quando evocato Jogsotot vero non bisogna mai evocare Jogsotot Paolo io non ti servo rancore Charles io ti perdono no non l'ha perdonato non l'ha perdonato non bisogna mai evocare Jogsotot non bisogna mai evocare nessuno in partì no mai oddio l'unico che è sempre contento di essere evocato se è possibile farlo è Jogsotot perché si trova dei nuovi giocattoli è l'unico che è sempre contento oddio non sempre leggeremo uno degli ultimi racconti di Lovecraft tra un bel po' oddio si è contento più o meno contento in modo perverso perché si trova dei nuovi giocattoli tutto e gli abissi non solo della psiche umana non solo della psiche umana anche del cosmo forse è meglio non non toccare e se dentro quel bellissimo crimorio si nascondesse in realtà mi ha trovato tempo ah può essere può essere come si si cavolo per ora nella campagna nessuno di voi ha letto un incantesimo tu ieri Giacomo per poco hai letto qualcosa che di antico ma hai lasciato stare l'incantesimo è certo perché sono furbo io io non faccio le cose stupide almeno che non ci sia altra scelta se posso evitare evito io faccio capire sotto le librerie e dai Dario io sono il giocatore che i master io sono il giocatore che i master odiano vuoi guardare nell'abisso scuro no io sto bene così ma ieri quella è stata bellissima perché hai fatto un fallimento critico ti sembra pushato all'ulteriore fallimento oltre il doatta critico ho detto ok no vabbè qua no io non faccio più basta e farò un rituale con la salvia brucerò della salvia vicino i dadi cosa devo fare lo faccio anch'io con i miei perché non è possibile sinceramente il foglio che lo vedi per un istante poi va sotto una libreria di mogano di 700 kg mi lancio da una finestra ok sì sì Erin in quel momento il mio personaggio ha valutato il suicidio perché ha detto no non è possibile non c'è più spiegati così bellissimo oh sì ragazzi allora signore e signori dai direi che ci possiamo forse non mi sono spiegato puoi leggere questo misterioso libro capito capito e che adesso devi continuare ho visto bello ma ci tengo la mia sanità mentale puoi guardare nell'abisso oscuro dove ci sono probabilmente orrori innominabili no sto bene così no sto bene così no no cosa facciamo stasera una gita nel Camposanto bene giusto ma no no grazie ecco prima o poi una gita serata in qualche cimitero antico sarebbe figa a casa tua no io no no a casa mia non ho cimitero no era per dire era per dire che no era per dire che te la fai tu e poi me la racconti in quel senso sì sarebbe bello vedremo se sarà una Roma in salieto fine quella tra il mio personaggio e quello di Marta oppure finirà malissimo probabilmente finirà malissimo e tutto il resto o sarà interessante comunque ah non c'entra niente ma notizia bellissima di oggi per i giocatori di ruolo presto partirà un nuovo kickstarter di Lex Arcana con un nuovo manuale la prima campagna lunga e altre robe da annunciare ancora sono molto carico altri dadi altre cose Lex Arcana è quello romano è X-Files dell'antica Roma siete i trattoriali che vanno a caccia di mostre io spero solo che che 7C non abbia anche quello un sistema di dadi a parte perché altrimenti è finita 7C usa i D10 ok quindi quello ce li hai ci diamo no non in quel senso ma che incappiamo in orrori strani e tutto in quel senso comunque dai direi che ci appropriamo alla conclusione grazie ai miei colleghi Dario e Sara per essere stati qui anche stasera grazie a Giacomo che ci vuole sempre qui a Sara alla loro lettura e grazie a tutti voi che ci avete seguito finora non disperate verranno ricaricate anche queste appena si riusciranno non penso che questa settimana forse la prossima quando io e Giacomo riusciremo a rivederci di persona però è tutto salvato non temete ne mancano so che ne mancano queste due puntate ultime e la prossima che faremo probabilmente le ricaricherò tutte e tre insieme poi quando le riuscirò a recuperare la prossima la settimana prossima si prosegue con Charles World che abbiamo ancora un po' da leggere prima di andare alla mia preferita il colore venuto dallo spazio io ringrazio Giacomo e Dario ringrazio anche voi della chat e ragazzi alla prossima buonanotte buona continuazione e speriamo di ritrovarci presto appunto per capire madonna quanto mi dispiace per Charles adesso no veramente mi sono dispiaciutissimo per Charles adesso abbiamo a che fare a me sta proprio sulle palle è vero che ha fatto ha fatto un bel po' Charles per arrivare lì ma magari era una roba che non si aspettava vabbè e niente e niente tra l'altro se guardate il film quello con Vincent Price è bellissimo perché proprio cambia voce più o meno quando fai cambia proprio atteggiamento quando fai i due personaggi ed è molto figo quella è una cosa che ha reso veramente bene ma è Vincent Price era Vincent Price esatto io ringrazio tutti voi che eravate qua stasera chi si è abbonato o riabbonato è passato a salutare o ha solo guardato o commentato grazie per tutte le interazioni seguitemi su Instagram per gli aggiornamenti per chi vuole abbonarsi c'è il gruppo Telegram dedicato una live settimanale dedicata e nessuna pubblicità vi faccio sapere se domani sera alle 21 ci vediamo oppure no vi segui a due tirò su Instagram per tutte queste cose qua io vi abbraccio tutti e tutti vi si vuol bene grazie colleghe grazie chat buon proseguimento di serato buonanotte se andate a dormire alla prossima ciao 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 buonanotte a settimana prossima ciao ciao